Il mistero di Marie Rouget C'è tutta una serie di eventi ideali che si svolgono parallelamente ad eventi reali. Raramente coincidono. Uomini e casi solitamente modificano la sequenza ideale degli eventi, così che essa appare imperfetta. E parimente imperfette risultano le conseguenze. Così accadde con la riforma. Il luogo del protestantesimo venne il luteranesimo. Novalis moralische ansichten. Sono pochi anche fra i pensatori più pagati, coloro che non siano rimasti colpiti da una vaga. E tuttavia inquietante semicredenza nel soprannaturale, indotta da coincidenza in apparenza di così straordinaria natura che l'intelletto non può accettarle come mere coincidenze. Simili sentimenti. Se che le semicredenze di cui parlo non posseggono mai il pieno vigore del pensiero, di rado vengono totalmente repressi se non si fa riferimento alla teoria del caso o, come si dice tecnicamente, al calcolo delle probabilità. Ora questo calcolo è nella sua essenza puramente matematico e pertanto ci troviamo di fronte a questa anomalia che la scienza più rigorosamente esatta viene applicata all'ombra e alla non-entità di quanto nella speculazione è meno tangibile. I dettagli straordinari che sono ora invitato a rendere pubblici formano come si noterà a riguardo alla sequenza temporale il filone primario di una serie di coincidenze appena intellegibili il cui filone secondario conclusivo sarà individuato da tutti i lettori nel recente assassino di Mary Cecilia Rogers a New York. Quando in un articolo intitolato «I delitti del Rimorgue» tentai circa un anno fa di ritrarre alcune eccezionali qualità intellettuali del mio amico il cavaliere Auguste Dupin non pensavo che in seguito ci sarebbe toccato tornare sull'argomento. Mio scopo era stato per l'appunto ritrarre un dato personaggio e tale scopo era stato perfettamente raggiunto riferendo quell'intrico di circostanze che bene esemplificavano l'idiosincrasia di Dupin avrei potuto addurre altri esempi ma non avrei dimostrato niente di più di quel che dimostrai fatti recenti tuttavia con il loro straordinario svolgimento mi hanno sollecitato a render noti ulteriori particolari che avranno l'aria di una confessione storta ma avendo appreso quel che ho appreso di recente sarebbe davvero strano se mantenessi il silenzio su quanto ho udito e veduto molto tempo fa una volta risolto il tragico caso della morte di madame despanaye e della figlia il cavaliere aveva immediatamente cessato di dedicargli la sua attenzione ed era ripiombato nella consueta insocevole fantasticheria incline in ogni momento all'astrazione mi uniformai senza difficoltà a codesto suo umore e continuando ad occupare le nostre stanze al Faubourg Saint-Germain e abbandonando il futuro allo scorrere dei venti sadagiammo tranquillamente nel sopore del presente intessendo in una trama di sogni l'ugioso mondo che ci circondava non che questi sogni fossero ininterrotti come è facile immaginare la parte avuta dal mio amico nel dramma della Rue Mog non aveva mancato di colpire la fantasia della polizia paregina tra i suoi funzionari il nome di Dupin era divenuto più che familiare poiché la lucida semplicità delle intuizioni grazie alle quali egli aveva sbrogliato il mistero non era stata chiarita a nessuno neppure al prefetto ma solo a me non fa meraviglia che tutta la faccenda fosse considerata poco meno che miracolosa o che le capacità analitiche del cavaliere avessero finito col fargli attribuire uno straordinario potere di intuizione la sua schiettezza l'avrebbe indotto a disingannare chiunque indotto da tale pregiudizio gli avesse fatto domande in proposito ma il suo umore indolente gli vietava di tornare ad agitarsi per una questione cui da tempo aveva cessato di prendere interesse così egli divenne agli occhi della polizia una sorta di stella polare e non furono pochi i casi in cui la prefettura cercò di assicurarsi la sua collaborazione uno dei più notevoli fu quello dell'assassinio di una ragazza di nome Marie Roget il fatto accadde circa due anni dopo l'atroce vicenda della Rue Morgue Marie, il cui nome e cognome attireranno subito l'attenzione per la somiglianza con quelli della sventurata Sigaraia era figlia unica della vedova Estelle Roget il padre era morto quando era ancora bambina e dall'epoca della sua morte fino a meno di 18 mesi prima dell'assassinio che è argomento della nostra narrazione madre e figlia erano vissute insieme nella Rue Pavée Saint-André dove Madame con l'aiuto di Marie teneva una pensione le cose continuarono così finché la ragazza non ebbe compiuto i 22 anni allorché la sua grande bellezza attrasse l'attenzione di un profumiere che occupava uno dei negozi a piano terra del Palais Royal e la cui clientela era costituita principalmente dagli avventurieri senza scrupoli che infestavano quel quartiere Monsieur Leblanche intuì i vantaggi che potevano venirti dalla presenza nel suo negozio della bella Marie e le sue generose offerte vennero accettate con entusiasmo dalla ragazza con qualche perplessità da Madame Le previsioni del negoziante si avverarono e il suo locale divenne famoso grazie allo charme della brillante Grisette Marie era da un anno alle dipendenze del profumiere quando i suoi ammiratori furono sconcertati dalla sua improvvisa scomparsa dal negozio Monsieur Leblanche non era in grado di spiegarne l'assenza e Madame Roger era sconvolta dall'ansia e dal terrore i giornali presero immediatamente ad occuparsi della faccenda e la polizia stava per dare inizio ad accurate indagini quando una bella mattina trascorsa una settimana Marie riapparve dietro il suo banco nel negozio in buona salute ma con un'aria alquanto immalinconita tutte le indagini tranne quelle private vennero naturalmente messe a tacere Monsieur Leblanche dichiarò come in precedenza di non sapere nulla Marie come Madame rispose a tutti quelli che glielo chiedevano di aver trascorso l'ultima settimana in casa di parenti in campagna così la faccenda perse di interesse e fu dimenticata dai più da che ben presto la ragazza certo per sottrarsi al fastidio di una curiosità inopportuna si congedò definitivamente dal profumiere e cercò rifugio nella residenza di sua madre Henri Pavé Sant'André ma non erano passati cinque mesi dal suo ritorno a casa i suoi amici vennero messi in allarme da una seconda repentina scomparsa trascorsero tre giorni senza che si avesse notizia di lei un quarto giorno il suo cadavere fu trovato a galla sulla Senna presso la riva di rimpetto al quartiere Ruy Sant'André in un punto non molto distante dalla poco frequentata barriera di Rull l'atrocità del delitto da che fu subito evidente che si trattava di delitto la giovanità e la bellezza della vittima e ancor più la sua precedente notorietà contribuirono tutti insieme a produrre un'intensa eccitazione nell'animo dei sensibilissimi parigini non ricordo alcun evento del genere che producesse un effetto altrettanto generale ed intenso per parecchie settimane la discussione di quest'unico appassionante argomento fece dimenticare anche i più importanti problemi politici del giorno il prefetto ordinò misure straordinarie e naturalmente tutte le forze della polizia parigina vennero impegnate al massimo quando venne scoperto il cadavere non si credette che l'assassino sarebbe riuscito a deludere fuorché per un breve periodo l'indagine immediatamente avviata solo all'ospirare della prima settimana si ritenne necessario offrire una ricompensa che tuttavia non superò i mille franchi nel frattempo l'investigazione procedeva con vigore anche se non sempre con discernimento e numerosi individui vennero interrogati inutilmente intanto l'assenza totale e prolungata di indizi che portassero all'assoluzione del mistero non faceva che accrescere l'eccitazione popolare trascorsi dieci giorni si ritenne opportuno raddoppiare la somma offerta all'inizio e infine dopo che fu trascorsa la seconda settimana senza che emergesse niente di nuovo e dopo che la tradizionale diffidenza dei parigini nei confronti della polizia si fu espressa in diverse violente emette il prefetto si assunse la responsabilità di offrire la somma di 20.000 franchi per l'identificazione dell'assassino o se si fosse provato che più di uno era implicato nel delitto per l'identificazione di uno degli assassini nel proclama che offriva questa ricompensa si prometteva piena indulgenza al complice che deponesse contro il reo e al manifesto dovunque fu affisso ne venne affiancato un altro privato di un comitato di cittadini che offriva 10.000 franchi in aggiunta alla somma proposta dalla prefettura così il compenso globale ammontava 30.000 franchi somma straordinaria considerando l'umile condizione della giovane e la frequenza nelle grandi città di atroci delitti come quello qui descritto ora nessuno dubitava che in breve si sarebbe fatta luce sul mistero ma sebbene in un paio di casi si procedesse ad arresti da cui ci si attendeva qualche rivelazione nulla ne risultò che potesse incriminare persone sospette e queste vennero subito rilasciate per strano che possa sembrare era trascorsa la terza settimana dal rinvenimento del corpo e senza che si facesse luce sulla faccenda e ancora nessuna eco dei fatti che tanto avevano agitato l'opinione pubblica era giunta alle orecchie di Dupin e mie occupati in ricerche che avevano assorbito tutta la nostra attenzione per circa un mese nessuno di noi due era mai uscito di casa o aveva ricevuto visite o dato più che uno sguardo ai più importanti articoli politici di uno dei quotidiani la prima notizia dell'assassinio ce la portò G in persona venne a trovarci di primo pomeriggio il 13 di luglio 1800 e rimase con noi fino a tardanotte era irritatissimo per il fallimento di tutti i suoi tentativi di scovare gli assassini ne andava di mezzo così si espresse con aria tutta parigina la sua reputazione era in gioco anche il suo onore gli occhi del pubblico erano fissi su di lui e non vera il sacrificio che non fosse disposto a fare purché il mistero fosse risolto concluse il suo discorso un po' strambo con un complimento per quello che ci compiacque di definire il tatto di Dupin e arrivò a fargli una proposta specifica indubbiamente assai liberale la cui precisa natura non credo di avere il diritto di rivelare ma che non ha alcun rapporto con quello che è l'argomento della narrazione del complimento il mio amico si schermì con la massima fermezza ma accettò subito la proposta sebbene i suoi vantaggi fossero totalmente sotto condizione concordato questo punto il prefetto passò senza indugio a chiarire diffusamente le proprie vedute inframmezzandole con prolissi commenti sulle deposizioni delle quali non eravamo ancora al corrente parlò molto e senza dubbio molto adottamente mentre io di tanto in tanto azzardavo qualche suggerimento e la notte soporiferamente si consumava Dupin che sedeva immobile nella sua solita poltrona era l'incarnazione stessa dell'attenzione più rispettosa per tutta la durata del colloquio non si tolse mai gli occhiali e una rapida occhiata sotto le loro lenti verdi bastò a convincermi che durante le 7-8 ore di piombo che avevano preceduto la partenza del prefetto egli aveva dormito silenziosamente ma profondamente la mattina mi procurai alla prefettura un rapporto completo di tutte le testimonianze raccolte e presso le redazioni dei vari quotidiani una copia di ogni giornale in cui dall'inizio alla fine fossero state pubblicate informazioni rilevanti sulla triste vicenda eliminato tutto ciò che era stato definitivamente smentito il grosso delle informazioni si riduceva a questo Marie Roget aveva lasciato l'abitazione della madre in Rue-Pavé-Saint-André verso le 9 del mattino domenica 22 giugno 1800 uscendo aveva informato un certo Messie Jacques Saint-Eustache e lui solo della sua intenzione di trascorrere la giornata presso una zia che risiedeva a Rue des Dormes la Rue des Dormes è una via breve stretta ma affollata non lontana dalle rive del fiume ed ista un paio di miglia in linea retta o quasi dalla pensione di Madame Roget Saint-Eustache era il corteggiatore ufficiale il pretendente di Marie e alloggiava prendendovi anche i pasti alla pensione verso sera avrebbe dovuto raggiungere la fidanzata per riaccompagnarla a casa ma nel pomeriggio si mise a piovere a dirotto ed egli supponendo che la ragazza si sarebbe trattenuta per la notte presso la zia come in circostanze analoghe aveva fatto altre volte non ritene necessario mantenere la promessa quando scese la notte si udì Madame Roget 70 anni, inferma esprimere il timore che non avrebbe mai più rivisto Marie ma al momento la frase non attirò particolare attenzione il lunedì si accertò che la ragazza non si era ricata a Henri de Drôme e quando il giorno fu trascorso senza che di lei si avessero altre notizie si organizzò una tardiva ricerca in vari punti della città e nei dintorni ma fu solo il quarto giorno dopo la sua scomparsa che si ebbero notizie fondate su Marie quel giorno, mercoledì 25 giugno un certo Messie Beauvais che insieme a un amico aveva condotto delle ricerche presso la barriera d'Uroul sulla sponda della senna di rimpetto alla Rue Pavé Saint-André venne avvertito che alcuni pescatori avevano appena tratto a riva con delle funi un cadavere l'avevano trovato che galleggiava sul fiume alla vista del corpo Beauvais lo aveva identificato non senza esitazione per quello della commessa della profumeria l'amico lo riconobbe con maggiore sicurezza il volto era cosparso di sangue rappreso scuro che in parte usciva dalla bocca non si vedeva schiuma come si nota nel caso di chi muore annegato né decolorazione dei tessuti intorno alla gola si notavano lividi e impronte di dita le braccia erano ripiegate sul petto e rigide serrata la mano destra un po' aperta la sinistra sul polso sinistro erano due escoriazioni circolari evidentemente causate da corde o da una corda rigirata più volte inoltre parte del polso destro presentava abrasioni e così tutta la schiena particolarmente le scapole per trarre arriva il corpo i pescatori l'avevano assicurato a una fune ma non era stata quella a produrre le escoriazioni la carne del collo era molto infiata non verano tagli visibili né lividi causati da percosse venne trovato un pezzo di nastro per guarnizione così strettamente legato intorno al collo da sfuggire alla vista era completamente affondato nella carne e fermato da un nodo proprio sotto l'orecchio sinistro da solo sarebbe bastato a causarne la morte l'esame medico legale attestava senza ombra di dubbio la virtù della defunta era stata vittima venne detto di una brutale violenza quando era stato rinvenuto il cadavere era in uno stato tale da rendersi facilmente riconoscibile agli amici della ragazza il vestito era lacerato e altrimenti manomesso una striscia di stoffa larga circa un piede era stata strappata dall'orlo della gonna fin su alla vita ma non staccata era stata avvolta in tre giri attorno alla vita e fermata sulla schiena con una sorta di nodo a fiocco la sottovesta era di fine mussolina e con grande precisione accuratamente era stata strappata una striscia larga 18 pollici annodata poi intorno al collo un po' allentata ma tenuta ferma da un solido nodo da questa striscia di mussola e dalla striscia di merletto pendeva attaccata per i lacci una cuffietta il nodo che fermava i lacci della cuffietta non era uno di quelli che può fare una donna un nodo piatto piuttosto o un nodo da marinaio il cadavere dopo la ricognizione non venne portato all'obitorio formalità ormai superflua ma sotterrato in fretta non lontano dal punto in cui era stato tratto a riva grazie agli sforzi di Bouve la faccenda era stata diligentemente messa a tacere nei limiti del possibile ed erano già trascorsi parecchi giorni prima che tra la gente si diffondesse una qualche emozione ma alla fine un settimanale si occupò dell'argomento il cadavere venne riesumato e fu aperta una nuova indagine ma dall'esame non risultò nulla che non fosse già noto comunque i vestiti vennero ora mostrati alla madre e agli amici della vittima e pienamente identificati come quegli stessi che la ragazza indossava il giorno che si era allontanata da casa intanto l'agitazione popolare andava aumentando di ora in ora parecchie persone vennero arrestate e rilasciate i sospetti si appuntarono soprattutto Susante Eustache ed egli sulle prime non seppe dare un resoconto intellegibile di quel che avesse fatto e di dove fosse stato la domenica in cui Marie si era allontanata da casa in seguito tuttavia fornì a Messie G degli affidavit che fornivano un alibi convincente per ogni ora del giorno in questione col passare del tempo poiché non si scopriva nessun nuovo elemento presero a circolare mille voci contradditorie e i giornalisti si buttarono a far congettura fra queste la più suggestiva fu quella basata sull'idea che Marie Roget fosse ancora viva che il cadavere trovato nella Seine fosse quello di qualche altra sventurata sarà opportuno sottomettere al lettore alcuni passi che si riferiscono a tale congettura darò pertanto la traduzione letterale di passi tratti dall'Etoile un giornale generalmente redatto con grande mestiere Mademoiselle Roget lasciò la casa della madre domenica mattina 22 giugno 1800 con il proposito dichiarato di recarsi a far visita alla zia o altra parente in Rue de Drôme e quel momento non si approva che alcuno l'abbia vista di lei non va più traccia o notizia finora non si è fatto avanti nessuno che l'abbia vista quel giorno dopo che fu uscita dalla casa della madre ora non abbiamo prove che Marie Roget fosse nel mondo dei vivi dopo le nove di domenica 22 giugno ma abbiamo la prova che fino a quell'ora era viva mercoledì a mezzogiorno alle 12 precise viene scoperto il corpo di una donna che galleggia sull'acqua lungo la riva della barriere de Drôme dunque anche supponendo che Marie Roget venisse gettata nel fiume tre ore dopo essere uscita di casa il ritrovamento ha luogo a soli tre giorni di distanza da quel momento tre giorni esatti al minuto ma è follia supporre che il delitto semmai delitto venne perpetrato su di lei possa essere stato consumato tanto presto da permettere agli assassini di gettare il corpo nel fiume prima di mezzanotte gli è colpevole di crimini così orribili sceglie le tenebre non la luce dunque se il corpo trovato era quello di Marie Roget sarebbe rimasto in acqua due giorni e mezzo al massimo tre tutte le esperienze dimostrano che occorrono dai sei ai dieci giorni perché i corpi degli annegati o i corpi gettati in acqua subito dopo morte violenta arrivino a uno stato di decomposizione sufficiente a farli risalire alla superficie anche quando si spara un colpo di cannone a pelo d'acqua sopra il punto in cui presumibilmente si trova il cadavere e questo riaffiora prima che siano trascorsi almeno cinque o sei giorni dal momento dell'immersione si è lasciato andare affonda nuovamente ora ci chiediamo che cosa in questo caso avrebbe potuto comportare un'eccezione al corso consueto della natura se il corpo così straziato fosse rimasto fino a martedì notte sulla riva e se sarebbe pur trovata qualche traccia degli assassini è dubbio inoltre che il corpo sarebbe tornato a galla così presto anche se fosse stato gettato in acqua due giorni dopo la morte e ancora è estremamente improbabile che i delinquenti che avessero commesso un delitto quale qui si suppone avrebbero gettato in acqua il corpo senza un qualche peso che lo facesse andare a fondo quando adottare una simile precauzione era tutt'altro che difficile e il redattore avanzava a questo punto l'ipotesi che il cadavere sia rimasto in acqua non solo tre giorni ma cinque volte tre giorni già che era in stato di così avanzata decomposizione che Beauvais ebbe grande difficoltà a riconoscerlo quest'ultimo punto fu tuttavia pienamente confutato riprendo la traduzione quali sono dunque i fatti in base ai quali Messie Beauvais afferma di non aver dubbio alcuno che il corpo fosse quello di Marie Rocher egli strappò una manica del vestito e dice di aver trovato dei segni che lo rendono pienamente certo dell'identità è opinione generale che tali segni consistessero in qualche sorta di cicatrizi no egli strofinò il braccio e vi trovò della peluria difficile pensiamo immaginare qualcosa di meno indicativo è come trovare un braccio in una manica più o meno Messie Beauvais non fece ritorno quella sera ma mercoledì sera alle sette mandò a dire a Madame Rocher che l'inchiesta sulla figlia era ancora in corso se noi ammettiamo che per l'età e il dolore Madame Rocher non fosse in grado di recarsi sul posto ed è già ammettere anche troppo doveva pur esserci qualcun altro in grado di pensare che valesse la pena di andarci e di presenziare l'inchiesta se davvero si riteneva che il corpo fosse quello di Marie nessuno si recò sul posto in cui Pave Saint-André nulla si disse né si udì della vicenda che giungesse all'orecchio degli inquilini di quella casa Messie Saint-Eustache innamorato e promesso sposo di Marie che era a pensione presso la madre di lei depone di non aver sentito parlare del rinvenimento del corpo della fidanzata sino al mattino successivo quando Messie Beauvais entrò nella sua stanza e gli comunicò la notizia trattandosi di una notizia di tal genere sorprende che sia stata accolta con estrema freddezza in questo modo il giornale cercava di creare l'impressione che i parenti di Marie avessero dato prova di una certa apatia apatia incompatibile con l'ipotesi che detti parenti fossero convinti che quello era il cadaveri di Marie e si insinuava dell'altro che Marie con la connivenza dei suoi si era allontanata dalla città per ragioni che implicavano legittimi dubbi sulla sua castità e che queste persone alla scoperta di un cadavere nella senna un poco somigliante alla ragazza avevano tratto profitto da quell'occasione per diffondere tra il pubblico la convinzione che fosse morta ma l'Etoile era stato di nuovo precipitoso venne chiaramente provato che contrariamente a quanto supposto non vi era stata apatia di sorta che la vecchia signora era debolissima e così turbata ad essere incapace di attendere a qualsiasi compito che Saint-Eustache lungi dall'accogliere la notizia con freddezza era sconvolto dal dolore e così fuori di sé che Monsieur Bouvet si vide costretto ad insistere presso un amico e un parente affinché si prendessero cura di lui e impedissero che assistesse dopo l'esumazione alla ricognizione del cadavere inoltre sebbene l'Etoile asserisse che la salma era stata risseppellita pubblica e spese che una generosa offerta di sepoltura privata era stata fermamente respinta dalla famiglia e che nessun membro della famiglia aveva assistito alla cerimonia funebre sebbene dicevo l'Etoile asserisse tutto ciò per dar maggior forza all'impressione che intendeva suscitare tutto ciò venne smentito nel modo più convincente in un numero successivo il giornale tentò di far cadere i sospetti sullo stesso Bouvet scriveva il redattore si presenta ora un nuovo elemento abbiamo appreso che in una certa occasione mentre una certa Madame B si trovava in casa di Madame Rocher Monsieur Bouvet che si accingeva a uscire le disse che si attendeva la visita di un gendarme e che lei Madame B non doveva dire nulla a quel gendarme finché egli non fosse tornato che lasciasse tutta la cosa a lui Monsieur Bouvet così come stanno ora le cose si ha l'impressione che Monsieur Bouvet si tenga ben chiusa in testa tutto ciò che sa non si può fare un passo senza Monsieur Bouvet perché da qualunque parte vi voltiate ve lo trovate davanti ha deciso per una ragione tutta sua che nessuno all'infuori di lui debba occuparsi dell'inchiesta e ha messo da parte i parenti maschi in un modo che stando alla loro versione è davvero singolare sembra aver fatto di tutto perché ai parenti non fosse permesso di vedere il corpo il fatto che segue dava un certo colore di verosimiglianza ai sospetti così gettati su Bouvet un tale che andò a cercarlo nel suo ufficio alcuni giorni prima della scomparsa della ragazza e durante l'assenza di Monsieur Bouvet aveva notato una rosa infilata nella serratura e il nome Marie scritto su una lavagna pesali accanto l'impressione generale per quel tanto che potevamo spigolarla dai giornali sembrava essere che Marie fosse stata vittima di una banda di teppisti che costoro l'avessero portata sul fiume seviziata e assassinata tuttavia Le Comerciel giornale assai diffuso e autorevole contrastò risolutamente questa idea popolare citò dalle sue colonne un paio di brani è nostra convinzione che le ricerche indirizzandosi verso la barriera durol abbiano seguito finora una falsa pista è impossibile che una persona ben nota come questa giovane donna a migliaia di persone abbia potuto passare tra isolati senza che alcuno la vedesse e chiunque l'avesse vista se ne sarebbe ricordato giacché suscitava l'interesse di quanti la conoscevano quando uscì di casa le strade erano affollate è impossibile che abbia potuto arrivare fino alla barriera durol o alla rue des trommes senza essere riconosciuta da una dozzina di persone eppure non si è presentato nessuno che l'abbia vista fuori della casa materna e non c'è prova tranne le sue dichiarate intenzioni che si è effettivamente uscita di casa il suo vestito era strappato legato intorno al corpo e annodato e il corpo venne tracinato per il vestito come un fagotto se il delitto fosse stato commesso alla barriera durol non ci sarebbe stato bisogno di simili misure il fatto che il corpo venne trovato a galla nel fiume in prossimità della barriera non ci dice nulla sul luogo da cui fu gettato in acqua un pezzo di una delle sottovesti della sventurata giovane lungo due piedi e largo uno venne strappato legato sotto il mento e annodato alla nuca probabilmente per impedire che gridasse chi ha fatto ciò non aveva nemmeno un fazzoletto da tasca o da collo un giorno o due prima che il prefetto venisse a farci visita pervenne alla polizia un'informazione che parve demolire almeno nella parte principale l'argomentazione di Le Comerciel due ragazzini figli di una certa madame de l'uc mentre giravano per i boschi in prossimità della barriera durol si erano addentrati per caso in una folta macchia nella quale erano tre o quattro grandi pietre che formavano una specie di sedile con schienale e poggiapiedi sulla pietra più alta si trovava una sottoveste bianca sulla seconda una sciarpa di seta vi furono rinvenuti anche un parasole un paio di guanti e un fazzoletto il fazzoletto portava ricamato un nome Marie-Rogé brandelle di vestito vennero scoperti sui rovi tutti intorno la terra era smossa calpestata e i cespugli spezzati erano tutti i segni di una colluttazione tra la macchia di rovi e il fiume erano state divelte le staccionate e le tracce sul terreno indicavano che vi era stato trascinato un pesante fardello un settimanale le soleil così commentò la scoperta facendo eco in sostanza ai sentimenti dell'intera stampa parigina tutti quegli oggetti erano lì evidentemente da almeno tre o quattro settimane erano completamente ammuffiti per effetto della pioggia e la muffa li incollava insieme l'erba era cresciuta intorno ad essi ad alcuni anche sopra la seta del parasole era resistente ma all'interno le sue fibre si erano accavallate la parte superiore dove la stoffa era rinforzata e arrotolata era fradice e ammuffita e quando il parasole venne aperto si lacerò i brandelli del vestito strappati dai rovi erano larghi circa tre pollici e lunghi sei uno era l'orlo del vestito che era stato rammendato l'altro era un pezzo della gonna non dell'orlo sembravano strisce di tessuto strappate con violenza e si trovavano sui cespugli a circa un piede dal suolo non c'è dubbio dunque che sia stato scoperto il luogo in cui fu commesso questo crimine infame in seguito a questa scoperta si ebbero nuove testimonianze madame de luc dichiarò di gestire una piccola locanda non lontano dalla riva del fiume di fronte alla barriere de roule un luogo isolato molto isolato è là che alla domenica si danno abitualmente convegno ai teppisti della città che attraversano il fiume in barca quella domenica verso le tre del pomeriggio arrivò alla locanda una ragazza in compagnia di un giovanotto di carnagione scura i due si trattennero un po' di tempo quando se ne andarono prezzero la strada che portava a certi fitti boschi nelle vicinanze il vestito indossato dalla ragazza attirò l'attenzione di madame de luc perché assai simile a quello di un'apparente defunta notò in particolare la sciarpa subito dopo la partenza della coppia capitò lì una banda di mascalzoni fecero chiasso mangiarono e bevero senza pagare proseguirono per la strada presa dal giovanotto e dalla ragazza tornarono alla locanda che era quasi il crepuscolo e riattraversarono il fiume in gran fretta si era appena fatto buio quella stessa sera quando madame de luc e il figlio maggiore udirono delle grida di donna non lontano dalla locanda grida grida violente ma brevi madame de riconobbe non solo la sciarpa che era stata trovata nel roveto ma anche il vestito indosso al cadavere un conducente di omnibus valence testimoniò a questo punto di aver visto madame roget attraversare la senna su di una nave traghetto quella domenica in compagnia di un giovanotto di carnagione scura lui valence conosceva marie e non poteva essersi sbagliato sulla sua identità gli oggetti rinvenuti nella macchia furono tutti identificati dai parenti di marie le prove e le informazioni che avevo tratto dalla stampa seguendo il suggerimento di dupin interessavano ancora un punto ma un punto pareva della massima importanza risulta dunque che subito dopo la scoperta degli oggetti personali sopradescritti venne trovato nelle vicinanze di quella che ormai tutti ritenevano la scena del delitto il corpo senza vita o quasi dissente ostace il fidanzato di marie accanto a lui venne rinvenuta una fiala con l'etichetta laudano vuota il fiato confermava l'ingestione del veleno morì senza dir parola addosso gli venne trovata una lettera in cui brevemente dichiarava il suo amore per marie e i suoi propositi suicidi quasi non occorre che vi dica disse dupin come ebbe finito di leggere attentamente i miei appunti in questo caso è molto più complicato di quello della rue morgue dal quale differisce per un unico importante elemento questo è in genere un delitto atroce sì ma comune non ha nulla di particolarmente autré osserverete osserverete che proprio per questa ragione il mistero è stato ritenuto di facile soluzione mentre proprio per questa ragione avrebbe dovuto essere ritenuto difficile a risolversi così da prima non si ritenne neppure opportuno offrire una ricompensa i mirmidoni di G erano in grado immediatamente di capire come e perché una tale atrocità avrebbe potuto essere commessa la loro immaginazione riusciva a raffigurarsi un modo molti modi e un movente molti moventi e poiché l'uno e l'altro di questi modi o moventi poteva anche essere quello vero hanno dato per scontato che uno di essi dovesse esserlo ma la disinvoltura con cui vennero accolte queste mutevoli fantasticherie è lo stesso carattere di plausibilità che ciascuna di esse assumeva avrebbero dovuto essere intesi come indizi della difficoltà e non già della facilità che la soluzione comportava altra volta osservai che la ragione nella sua ricerca della verità trova la sua strada sempre che la trovi quando si alza al di sopra delle cose comuni e che in casi come l'attuale la domanda che ci dobbiamo porre non è tanto cosa è accaduto quanto cosa è accaduto che non sia già accaduto prima nelle indagini in casa di Madame L'Espanay gli agenti di G furono scoraggiati e disorientati da quanto vi era di insolito da quanto cioè avrebbe fornita un intelletto bene allenato la più sicura garanzia di successo mentre un intelletto si fatto sarebbe piombato nella disperazione proprio a causa del carattere comune di tutto ciò che si presentò allo sguardo nel caso della commessa di profumeria che invece nulla fece presagire ai funzionali della prefettura se non un facile trionfo nel caso di Madame L'Espanay e della figlia non vi fu fin dall'inizio delle indagini alcun dubbio che fosse stato commesso un assassino l'idea del suicidio fu subito esclusa anche in questo caso fin dall'inizio dobbiamo scartare qualsiasi ipotesi di suicidio il corpo rinvenuto alla barriera de Roule venne rinvenuto in circostanze tali da non lasciare adito a perplessità su questo punto fondamentale ma è stato insinuato che il cadavere scoperto non sia quello di Marie Roget ed è per la cattura dell'assassino o degli assassini di Costei che è stata proposta una ricompensa anche il nostro accordo con il prefetto è valido unicamente per questo caso tutti e due conosciamo bene questo signore meglio non accordargli eccessiva fiducia se partendo nelle nostre indagini dal rinvenimento del cadavere e mettendoci sulle tracce di un assassino accertiamo tuttavia che il corpo è quello di un'altra persona e non quello di Marie o se prendendo come punto di partenza Marie stessa quando era ancora viva noi la troviamo ma non assassinata in un caso o nell'altro sarà fatica sprecata poiché è con messaggi che noi abbiamo a che fare nel nostro interesse se non proprio nell'interesse della giustizia è dunque indispensabile che il nostro primo passo sia quello di stabilire l'identità del corpo con quello della scomparsa Marie Roget presso il pubblico le argomentazioni dell'Etoile hanno avuto peso e che anche il giornale si è convinto della loro importanza risulta da uno degli articoli parecchi quotidiani del mattino così scrive parlano dell'articolo conclusivo dell'Etoile di lunedì per me questo articolo non porta alcuna conclusione tranne quella che si può trarre sullo zello di chi l'ha scritto dobbiamo tenere presente che in generale l'obiettivo dei nostri giornali è quello di far colpo di fare il punto più che di servire la causa della verità il secondo di questi due fini viene perseguito solo quando sembra coincidere con il primo la stampa che si limita a concordare con l'opinione comune profondata che sia non acquista credito presso la folla la maggioranza giudica profondo solo colui che propone tesi in stridente contraddizione con le opinioni comuni nelle argomentazioni non meno che in letteratura l'epigramma è il genere che più immediatamente e più universalmente viene apprezzato eppure in entrambi i casi il suo valore intrinseco è pressoché nullo voglio dire che quel tanto di epigramma più melodramma insito nell'idea che Marie Rochette sia tuttora viva e non la plausibilità dell'idea l'ha raccomandata all'Etoile e le ha assicurato una favorevole accoglienza presso il pubblico esaminiamo i punti base dell'argomentazione di questo giornale cercando di evitare l'incoerenza con cui venne originariamente presentata primo obiettivo di chi ha scritto l'articolo è quello di dimostrare che considerato il breve intervallo di tempo trascorso tra la scomparsa di Marie e il rinvenimento del cadavere sul fiume il cadavere non può essere quello di Marie una riduzione di tale intervallo al minimo possibile diviene pertanto immediatamente essenziale per l'argomentatore è follia supporre scrive che il delitto semmai delitto venne perpetrato su di lei possa essere stato consumato tanto presto da permettere agli assassini di gettare il corpo nel fiume prima di mezzanotte noi domandiamo subito assai naturalmente e perché? perché mai sarebbe follia supporre che il delitto sia stato commesso cinque minuti dopo che la giovane era uscita dalla casa della madre perché sarebbe follia supporre che il delitto sia stato commesso in questa o in quell'ora del giorno gli assassini ce ne sono stati a tutte le ore ma se il delitto avesse avuto luogo in qualunque momento fra le nove di mattina della domenica e mezzanotte meno un quarto ci sarebbe pur sempre stato abbastanza tempo per gettare il corpo nel fiume prima di mezzanotte il presupposto si riduce dunque esattamente a questo che il delitto non sia stato affatto commesso quella domenica e se concediamo all'etuale questo presupposto possiamo concedergli tutte le licenze immaginabili e possibili il paragrafo che inizia è follia supporre eccetera anche se così lo vediamo stampato sull'etuale possiamo bene immaginare che nel cervello del compilatore sia stato concepito come segue è follia supporre che il delitto semmai delitto venne perpetrato su di lei possa essere stato consumato tanto presto da permettere agli assassini di gettare il corpo nel fiume prima di mezzanotte è follia diciamo supporre tutto ciò e supporre al tempo stesso come siamo fermamente decisi a fare che il corpo non sia stato gettato nel fiume se non dopo mezzanotte frase in sé abbastanza imprecisa ma non così totalmente assurda come quella stampata se io continuò Dupin mi proponessi semplicemente di confutare questa parte dell'argomentazione dell'etuale potrei lasciare le cose al punto in cui stanno ma non è l'etuale che ci interessa è la verità così è come la si legge la frase in questione ha un solo significato e questo significato l'ho chiaramente definito ma è essenziale andare oltre le pure e semplici parole e cercare l'idea che tali parole hanno ovviamente inteso e che non sono riuscite a comunicare il giornalista intendeva dire che in qualunque momento di quella domenica o di giorno o di notte fosse stato commesso il delitto è improbabile che gli assassini si sarebbero arrischiati a portare il corpo al fiume prima della mezzanotte ed è precisamente questa la supposizione che contesto si pretende che il delitto sia stato commesso in un luogo tale e in tali circostanze da rendere necessario trasportare il corpo fino al fiume ora l'assassinio avrebbe potuto aver luogo sulla riva del fiume o sul fiume stesso e in tal caso si sarebbe potuto ricorrere non importa quale ora del giorno o della notte alla soluzione di gettare il corpo in acqua come al metodo più ovvio e immediato per toglierlo di mezzo come ben capite non sostengo nulla che non sia probabile che coincida con la mia personale opinione il mio disegno fin qui non ha alcuna relazione con i fatti vorrei solo mettervi in guardia contro il tono generale dell'etual richiamando la vostra attenzione su quello che fin dall'inizio ha tutta l'aria di essere un partito preso avendo così fissato un limite di tempo conveniente ai suoi preconcetti avendo stabilito che se quello era il corpo di marì sarebbe potuto rimanere in acqua solo per un periodo assai breve il giornale prosegue tutte le esperienze dimostrano che occorrono dai 6 ai 10 giorni perché i corpi degli annegati o i corpi gettati in acqua subito dopo la morte violenta arrivino a uno stato di decomposizione sufficiente a farli risalire alla superficie anche quando si spara un colpo di cannone a pelo d'acqua sopra il punto in cui presumibilmente si trova il cadavere e questo riaffiora prima che siano trascorsi almeno 5 o 6 giorni dal momento dell'immersione si è lasciato andare affonda nuovamente queste asserzioni sono state tacitamente accolte da tutti i giornali parigini ad eccezione delle moniteure quest'ultimo cerca di confutare la parte dell'articolo che si riferisce ai corpi degli annegati citando 5 o 6 casi in cui i corpi di persone notoriamente annegate vennero rinvenuti a galla sull'acqua dopo un periodo di tempo inferiore a quello fissato da l'Etoile tuttavia c'è nel tentativo di le moniteure di confutare un'asserzione generale di l'Etoile citando alcuni esempi particolari che con tale asserzione contrastano un chedi concettualmente inadeguato fosse stato possibile addurre 50 anziché 5 casi di corpi rinvenuti a galla sull'acqua allo scadere di 2 o 3 giorni questi 50 casi si sarebbero pur sempre potuti considerare e a ragione semplici eccezioni alla regola di l'Etoile finché la regola stessa non fosse stata confutata e se ammette la regola e l'Emaniter che insiste solo sulle eccezioni non la smentisce l'argomentazione di l'Etoile resta pienamente valida giacché tale argomentazione non intende andare oltre a una mera questione di probabilità in relazione al cadavere risalito alla superficie in meno di 3 giorni e tale probabilità confermerà la tesi di l'Etoile finché gli esempi così puerilmente addotti non saranno in numero bastevole a stabilire una regola opposta come ben vedete ogni argomentazione in proposito dovrebbe essere rivolta semmai contro la regola in sé ora il corpo umano in generale non è molto più leggero né molto più pesante dell'acqua della senna cioè in condizioni naturali il peso del corpo umano è pressoché uguale a quello della massa d'acqua dolce che esso sposta i corpi delle persone grasse e carnose con ossa piccole e in genere le corpi delle donne sono più leggeri di quelli magri e con ossa grandi e in genere degli uomini e il peso proprio dell'acqua di un fiume è in qualche misura influenzato dalla marea ma a prescindere dalla marea si può dire che anche nell'acqua dolce sono ben pochi i corpi umani che vanno a fondo spontaneamente chiunque o quasi cada in un fiume può restare a galla se fa sì che il peso dell'acqua sia bilanciato da quello del corpo se cioè lascia che l'intera persona si immerga completamente ad eccezione di una minima parte la posizione più adatta per chi non sa nuotare è la posizione eretta di chi cammina a terra la testa rovesciata all'indietro è immersa lasciando fuori solo la bocca e le narici in tali condizioni scopriremo di poter galleggiare senza difficoltà o sforzo è tuttavia evidente che il peso del corpo e quello dell'acqua spostata si trovano in delicatissimo equilibrio e basterà un nulla perché prevalga o l'uno o l'altro ad esempio un braccio alzato al di sopra dell'acqua e così privato del suo sostegno sarà un peggio extra sufficiente a sommergere la testa intera mentre basterà l'ausilio accidentale di un pezzo di legno anche piccolissimo per consentirci di sollevare la testa e di guardarci intorno ora che in una pratica del nuoto si dibatte e immancabilmente alza le braccia tentando contemporaneamente di mantenere la testa nella sua abituale posizione perpendicolare e consegue che la bocca e le narici vengono sommerse e i tentativi di respirare al di sotto della superficie fanno entrare acqua nei polmoni altra acqua finisce nello stomaco e tutto il corpo si appesantisce a causa della differenza di peso tra l'aria che prima dilatava queste cavità e quello del liquido che ora le riempie in genere tale differenza è sufficiente a mandare a fondo un corpo è invece insufficiente quando si tratta di individui con ossa piccole e una quantità abnorme di tessuti flaccidi o grassi questi individui restano a galla anche dopo essere annegati il cadavere che supponiamo sul fondo del fiume vi rimarrà finché in qualche modo il suo peso sarà ridiventato inferiore a quello della massa d'acqua che sposta questo effetto dipende dalla decomposizione o da altre cause risultato della decomposizione è la formazione di gas che dilata i tessuti cellulari e tutte le cavità e produce quella specie di enfiagione così orribile a vedersi quando il processo di dilatazione è così avanzato che il cadavere aumenta sensibilmente di volume senza un corrispondente aumento della massa o peso viene a pesare meno dell'acqua spostata e di conseguenza il corpo riemerge immediatamente alla superficie ma la decomposizione viene modificata da innumerevoli circostanze viene accelerata o ritardata da innumerevoli altri fattori ad esempio la temperatura esterna calda o fredda a seconda della stagione l'inquinamento da sostanze minerali ovvero la purezza dell'acqua la sua maggiore o minore profondità la presenza o meno di correnti le condizioni del corpo infetto o immune da malattie prima della morte è dunque evidente che non siamo in grado di stabilire con assoluta precisione in quale momento la decomposizione farà riemergere il cadavere in certe circostanze ciò può accadere nel giro di un'ora in certe altre può non accadere affatto esistono preparati chimici grazie ai quali il corpo può essere preservato per sempre dalla corruzione il bicloruro di mercurio ad esempio ma a parte la decomposizione può esservi solitamente vi è una produzione di gas nello stomaco dovuta alla fermentazione acetica di sostanze vegetali o in altre cavità per altre cause sufficiente a produrre una dilatazione tale da riportare il corpo alla superficie il colpo di cannone produce ed è questo il suo solo effetto una certa vibrazione questa può liberare il corpo dal fango o dalla melma in cui è immerso consentendogli di risalire a galla quando tale effetto è già stato reso possibile da altri fattori oppure può vincere la resistenza di alcune parti putride dei tessuti cellulari permettendo alle cavità di dilatarsi sotto l'influenza del gas ora che abbiamo davanti a noi tutto il materiale speculativo sull'argomento possiamo agevolmente servircene per verificare le affermazioni di l'Etoile tutte le esperienze dimostrano scrive il giornale che occorrono dai 6 ai 10 giorni perché i corpi degli annegati o i corpi gettati in acqua subito dopo morte violenta arrivino a uno stato di decomposizione sufficiente a farli risalire alla superficie anche quando si spara un colpo di cannone a pelo d'acqua sopra il punto in cui presumibilmente si trova il cadavere e questo riaffiora prima che siano trascorsi almeno 5 giorni o 6 giorni dal momento dell'immersione si è lasciato andare affonda nuovamente tutto il passo non può che apparirci ora un tessuto di incoerenza e di non sequitur tutte le esperienze non dimostrano che occorrono dai 6 ai 10 giorni perché i corpi degli annegati arrivino a uno stato di decomposizione sufficiente a farli risalire alla superficie e la scienza e l'esperienza dimostrano che il momento in cui riaffiorano è e non può non essere impossibile a determinarsi se inoltre un corpo riaffiora dopo che si è sparato un colpo di cannone non succede che si è lasciato andare a fondi nuovamente non succede fino a che la decomposizione non sia giunta a tal punto da consentire la fuoriuscita del gas prodottosi ma vorrei richiamare la vostra attenzione sulla distinzione che il giornale fa tra corpi di annegati e corpi gettati in acqua subito dopo morte violenta sebbene chi scrive ammetta tale distinzione l'include tutti nella stessa categoria ho mostrato come avviene che il corpo di chi annega diventi nettamente più pesante della massa d'acqua spostata e che non affonderebbe affatto se non si dibattesse alzando le braccia al di sopra della superficie boccheggiando al di sotto di essa e in tal modo riempiendo d'acqua lo spazio precedentemente occupato dall'aria nei polmoni ma questo dibattersi questo boccheggiare non si verificherebbero nel caso di un corpo gettato in acqua subito dopo morte violenta dunque in questo secondo caso il corpo come regola generale non affonderebbe affatto cosa che l'etuale evidentemente ignora quando lo stato di decomposizione è estremamente avanzato quando la carne sia in gran parte staccata dalle ossa allora e non prima il cadavere calerà a fondo e ora che dire dell'argomentazione secondo cui il corpo trovato non può essere quello di Marie Roget perché erano trascorsi solo tre giorni quando esso fu trovato a galla se fosse annegata trattandosi di una donna avrebbe potuto anche non affondare o una volta affondato avrebbe potuto riemergere dopo 24 ore o anche meno ma nessuno pensa che sia annegata ed essendo morta prima di venire gettata nel fiume si sarebbe potuto ritrovarla a galla in qualunque momento successivo alla morte ma dice l'etuale se il corpo così straziato fosse rimasto fino a martedì notte sulla riva vi si sarebbe pur trovata qualche traccia degli assassini e qui a prima vista è difficile capire a che miri l'argomentazione gli scrive intende prevenire quella che suppone potrebbe essere un'oblazione alla sua teoria che cioè il corpo venne lasciato due giorni sulla riva subendo una rapida decomposizione più rapida che se fosse rimasto immerso nell'acqua e gli suppone che se così fosse avvenuto il corpo sarebbe potuto ricomparire alla superficie il mercoledì e ritiene che solo in tale circostanze sarebbe potuto ricomparirvi pertanto si fa premura di dimostrare che non venne lasciato sulla riva perché in tal caso vi si sarebbe pur trovata qualche traccia degli assassini sorriderete penso di questo sequitur non riuscite a capire come la semplice permanenza del cadavere sulla riva avrebbe potuto moltiplicare le tracce degli assassini neanch'io riesco a capirlo e ancora è estremamente improbabile continua il nostro giornale che i delinquenti che avessero commesso un delitto quale si suppone avrebbero gettato in acqua il corpo senza un qualche peso che lo facesse andare a fondo quando adottare una simile precauzione era tutt'altro che difficile notate a questo punto la risibile confusione di pensieri nessuno nemmeno l'Etoile ha dubbi sul fatto che il corpo ritrovato sia quello di una persona assassinata troppo manifesti sono i segni della violenza il nostro argomentatore vuole solo dimostrare che Marie non venne assassinata non che quello non fosse il corpo di una donna assassinata tuttavia la sua osservazione dimostra solo quest'ultimo punto abbiamo un cadavere cui non sono attaccati pesi gli assassini gettandolo in acqua non avrebbero mancato di attaccargli un peso dunque non fu gettato in acqua dagli assassini viene dimostrato questo nient'altro il problema dell'identità non viene nemmeno sfiorato e l'Etoile si è dato un gran da fare solo per smentire ciò che aveva ammesso solo un momento prima siamo perfettamente convinti dice che il corpo ritrovato sia quello di una donna assassinata e è questo il solo caso in cui nel portare avanti la sua argomentazione il nostro ragionatore senza vedersene ragiona contro se stesso suo palese obiettivo l'ho già detto è ridurre il più possibile l'intervallo di tempo tra la scomparsa di Marie e il rinvenimento del cadavere ma ecco che ora insiste sul punto che nessuno ha visto la ragazza dopo che fu uscita dalla casa di sua madre non abbiamo prove scrive che Marie Roget fosse nel mondo dei vivi dopo le 9 di domenica 22 giugno trattandosi di argomentazione palesemente preconcetta il nostro avrebbe almeno dovuto evitare di calcar la mano proprio su questo punto poiché se si fosse saputo che qualcuno aveva visto Marie diciamo lunedì o martedì l'intervallo in questione si sarebbe notevolmente ridotto e stando al suo modo di ragionare sarebbero di molto diminuite le probabilità che il cadavere fosse quello della grisette ma è divertente osservare che Letoile insiste sul suo punto nella piena convinzione che proprio esso valga a sostenere la propria tesi generale rileggete ora la parte che nell'esposizione di tale tesi si riferisce all'identificazione della salma ad opera di Beauvais per quanto riguarda la peluria sul braccio Letoile ha palesemente falsato le cose Messie Beauvais non è un idiota e non è possibile che abbia insistito agli effetti dell'identificazione del cadavere sulla sola presenza di peluria sul braccio non esiste braccio privo di peluria la frase generica di Letoile altro non è che un'erronea interpretazione delle parole del testimone questo infatti avrà parlato di qualcosa di peculiare in questa peluria peculiare per colore quantità lunghezza o posizione il piede prosegue il giornale era piccolo ma di piedi piccoli ce ne sono a migliaia la giarrettiera non prova nulla e neppure la scarpa perché scarpe e giarrettiere si vendono in serie lo stesso può dirsi dei fiori sul cappellino una cosa su cui Messie Beauvais insiste è che la fibbia della giarrettiera rinvenuta era stata spostata all'indietro per agganciarla questo non significa nulla perché in genere le signore preferiscono portarsi a casa un paio di giarrettiere e adattarle alla misura degli arti che devono cingere a mo' di laccio piuttosto che provarle nel negozio dove le acquistano qui è difficile prendere sul serio un'argomentazione del genere se Messie Beauvais cercando il corpo di Marie ne avesse trovato uno corrispondente per taglia e aspetto generale a quello della giovane scomparsa sarebbe stato autorizzato tralasciando la questione dell'abbigliamento a convincersi che la sua ricerca aveva raggiunto il proprio scopo se in aggiunta al fatto della taglia e dell'aspetto avesse riscontrato sul braccio una pelosità peculiare che già aveva notato su Marie viva la sua convinzione ne sarebbe stata rafforzata e con fondamento e la certezza sarebbe stata cresciuta in diretta proporzione al carattere peculiare o insolito della peluria se dato che i piedi di Marie erano piccoli quelli del cadavere erano piccoli anch'essi la probabilità che il corpo fosse quello di Marie sarebbe aumentata non in modo meramente aritmetico ma decisamente geometrico o cumulativo aggiungete a tutto ciò scarpe dei quali stando a quel che sapeva la giovane portava il giorno in cui era scomparsa e anche se queste scarpe si vendono in serie la probabilità aumenta al punto da sfiorare la certezza ciò che preso in sé non costituirebbe una prova per l'identificazione fornisce in questo contesto una prova inconfutabile dateci poi fiori sulla cuffietta corrispondenti a quelli che portava la giovane scomparsa e non avremmo bisogno di cercare oltre se basta un fiore a non farci cercare oltre figuriamoci se i fiori sono due o tre o più ogni singola aggiunta equivale a una prova multipla non una prova aggiunta ma moltiplicata per cento o per mille e ora scopriamo sulla salma zarrettiare proprio come quelle che Marie usava da viva e sarebbe follia insistere su questo punto ma no si scopre che queste zarrettiare sono state accorciate spostando indietro un gancio o fibbia allo stesso modo in cui le aveva accorciate Marie poco prima di uscire di casa a questo punto dubitare pura pazzia o ipocrisia quel che dice l'Etoile e questo modo di accorciare le zarrettiare è cosa del tutto consueta dimostra la sua tenacia nell'errore solo questo il fatto stesso che la zarrettiare sia elastica dimostra che quel modo di accorciarla non è per nulla consueto ciò che è fatto in modo da adattarsi da sé solo di rado ha bisogno di una correzione esterna solo un fatto assolutamente accidentale deve aver reso necessaria l'operazione di accorciare le zarrettiere di Marie come descritto quelle zarrettiere bastavano da sole a stabilire l'identità solo che il corpo non venne trovato con le zarrettiere della giovane scomparsa o con le sue scarpe o la cuffietta o i fiori sulla cuffietta o i piedi così e così o quel segno particolare peluria sul braccio o la sua statura il suo aspetto il corpo aveva ciascuna di questi elementi e tutti quanti insieme e si potesse dimostrare che in tali circostanze il direttore di Letual continuasse sul serio ad avere dei dubbi non ci sarebbe bisogno nel suo caso di una commissione lunatico inquirendo e gli ha creduto di dar prova di sagacia riecheggiando le chiacchiere degli avvocati i quali per la maggior parte si accontentano di riecheggiare le rigide e ottuse ordinanze dei tribunali vorrei qui osservare che molto di ciò che un tribunale respinge come prova è per l'intelligenza la prova migliore da che i tribunali regolandosi in fatto di prove su principi generali principi riconosciuti e iscritti nel codice non sono affatto propensi a scostarseli nei singoli casi e questa pervicace aderenza al principio rigorosamente disdegnando ogni eccezione che con esso contrasta è modo sicuro per conseguire il maximum della verità conseguibile in ogni lunga sequenza temporale pertanto il metodo è ammas razionale ma non è meno certo che esso genera gravissimi errori individuali quanto alle insinuazioni fatte sul conto di Bouvet le possiamo liquidare immediatamente senza difficoltà avrete già penetrato il vero carattere di questo brav'uomo è un po' ficcanaso uno che ama darsi da fare ha molta fantasia e scarso acume che abbia un carattere del genere in una situazione che come questa susciti una vera emozione si comporterà automaticamente in modo tale da insospettire e i più acuti e i più diffidenti fra gli osservatori Messier Bouvet come risulta dai vostri appunti ha parlato più di una volta in privato con il direttore di L'Etoile e ha offeso usando avanzare l'opinione che il cadavere a dispetto della teoria del direttore fosse in effetti quello di Marie egli insiste dice il giornale ad affermare che il cadavere è quello di Marie ma non è in grado di fornire una sola circostanza in aggiunta a quelle che già abbiamo commentato tale da convincere gli altri ora senza tornare sul fatto che mai sarebbe stato possibile addurre prove migliori per convincere gli altri si può osservare che in un caso del genere uno può essere convintissimo di una determinata cosa senza tuttavia essere in grado di produrre una sola ragione atta a convincere gli altri nulla è più vago delle impressioni di quella che definiamo entità individuale ciascuno è in grado di riconoscere il proprio vicino e tuttavia sono pochi i casi in cui saprebbe fornire una ragione per tale riconoscimento il direttore di Letual non aveva il diritto di offendersi per questa non ragionata convinzione di Messier Bouvet le circostanze sospette che giocano contro di lui quadrano assai meglio si troverà con la mia ipotesi che si tratti di un fantasioso ficcanaso che non con le insinuazioni di colpevolezza contenute nell'argomentazione del giornalista se adottiamo l'interpretazione più indulgente non avremmo difficoltà a comprendere la rosa infilata nella serratura il nome Marie scritto sulla lavagna il modo in cui ha messo da parte i parenti maschi quel suo aver fatto di tutto perché ai parenti non fosse permesso di vedere il corpo il monito Madame B di non dire nulla al gendarme finché egli non fosse tornato e infine la sua palese determinazione che nessuno dall'infuori di lui debba occuparsi dell'inchiesta mi sembra fuori di dubbio che Beauvais fosse un corteggiatore di Marie che Marie ci vettasse un po' con lui e che il fatto che gli altri guardassero a lui come all'intimo amico e al confidente della ragazza lo lusingava enormemente non aggiungerò altro su questo punto e poiché le testimonianze smentiscono nel modo più completo quel che dice l'Etoile a proposito dell'apatia della madre e degli altri parenti un'apatia incompatibile con la supposizione che essi credessero che il cadavere fosse quello della giovane commessa procederemo come se la questione dell'identità fosse chiarita con nostra piena soddisfazione e che cosa pensate quasi a questo punto dell'opinione di Le Commerciel che nello spirito è assai più meritevole di considerazione di qualsiasi altra opinione avanzata sull'argomento le deduzioni cui portano le premesse sono razionali e acute ma le premesse almeno in due casi sono fondate su osservazioni superficiali Le Commerciel sostiene che Marie cadde nelle mani di una banda di volgari delinquenti non lontano dalla casa materna è impossibile afferma che una persona ben nota come questa giovane donna a migliaia di persone abbia potuto passare tra isolati senza che nessuno la vedesse così può pensare un uomo che da tempo vive a Parigi un uomo politico da cui le ambulazioni su e giù per la città si sono per lo più limitate ai quartieri dei pubblici uffici e gli sa benissimo che di rado gli avviene di allontanarsi di una dozzina di isolati dal suo bureau senza che lo si riconosca e gli si rivolga la parola e avendo presente il gran numero di coloro che egli conosce personalmente o che lo conoscono personalmente confronta la propria notorietà con quella della commessa di profumeria non vi trova gran differenza e salta alla conclusione che la ragazza per la strada sarebbe stata riconosciuta così come lo è lui ma ciò potrebbe darsi solo se le passeggiate di lei avessero avuto lo stesso carattere invariabile e metodico delle sue se come le sue si fossero svolte entro la stessa area limitata e specifica e gli passa e ripassa a intervalli regolari entro un perimetro ben definito frequentato da individui portati a notare la sua persona da interessi professionali che sono poi affini ai loro propri interessi ma il percorso seguito da Marie nelle sue passeggiate si può ben supporlo variava secondo dei casi in questo caso particolare si può ritenere assai probabile che seguisse un itinerario notevolmente diverso da quelli che più le erano consueti il parallelo sottinteso dalle commerciale potrebbe reggere solo nel caso di due individui che attraversassero la città da un capo all'altro allora ammettendo che avessero un uguale numero di conoscenze personali si avrebbero uguali probabilità di incontri con persone note per parte mia ritengo non solo possibile ma più che probabile che Marie abbia percorso un'ora qualsiasi una qualsiasi delle molte strade che dalla sua abitazione vanno a quella della zia senza incontrare una sola persona di sua conoscenza o che conoscesse lei permettere come si conviene il problema in giusta luce dobbiamo tenere presente la grande sproporzione tra le conoscenze personali di un abitante seppure tra i più noti di Parigi e l'intera popolazione della città quel tanto di convincente che potremmo ancora rinvenire nell'ipotesi delle commerciale perderà molto della sua forza se prendiamo in considerazione l'ora in cui la giovane uscì di casa scrive le commerciale quando uscì di casa le strade erano affollate niente affatto erano le nove del mattino ora alle nove di qualsiasi giorno della settimana eccettuata la domenica le strade della città sono effettivamente affollate ma alle nove di domenica la gente comune se ne sta in casa e si prepara per andare a messa nessuna persona dotata di spirito d'osservazione avrà mancato di notare l'aspetto della città stranamente deserto dalle otto circa fino alle dieci del mattino di ogni festività religiosa tra le dieci e le undici le strade sono affollate non così allora indicata c'è un altro punto in cui lo spirito d'osservazione di Le Commerciel appare inadeguato un pezzo scrive di una delle sottovesti della sventurata giovane lungo due piedi e largo uno venne strappato legato sotto il mento e annodato alla nuca probabilmente per impedire che gridasse chi ha fatto ciò non aveva nemmeno un fazzoletto da tasca o da collo cercheremo di vedere più avanti se questa idea sia più o meno fondata ma per gente che non aveva nemmeno un fazzoletto da tasca o da collo chi scrive intende delinquenti della più bassa specie si dà il caso invece che proprio gli individui di questa categoria si trovino sempre in possesso di un fazzoletto da collo anche quando sono senza camicia avrete certo osservato come in questi ultimi anni il fazzoletto sia diventato indispensabile alle autentiche canaglie e che dobbiamo pensare chiesi dell'articolo di Le Soleil che è un gran peccato che il redattore non sia nato pappagallo nel quel caso sarebbe stato il più illustre pappagallo della sua razza non ha fatto altro che ripetere uno per uno i passi dell'avversione già resa nota dai giornali si è messa insieme con notevole dirigenza da questo o quel foglio tutti gli oggetti scrive erano lì evidentemente da almeno tre o quattro settimane non c'è dubbio che sia stato scoperto il luogo in cui fu commesso questo crimine infame i fatti qui ripetuti dalle Soleil sono in verità ben lontani dal dissipare i miei personali dubbi in proposito e in seguito li esamineremo più dettagliatamente collegandoli a un'altra parte della nostra tesi al momento dobbiamo occuparci di altre indagini non vi sarà sfuggita l'estrema trascuratezza con cui si procedette all'esame del cadavere sì il problema dell'identificazione fu rapidamente risolto o almeno avrebbe dovuto esserlo ma vi erano altri punti da chiarire il corpo aveva subito spogliazioni la giovane portava dei gioielli quando era uscita e in tal caso ne aveva quando il suo corpo fu rinvenuto sono questi problemi importanti che le testimonianze non sfiorano neppure e ve ne sono altri di non minore importanza cui non è stata prestata la minima attenzione dobbiamo tentare di risolverli noi attraverso la nostra indagine il caso di Saint Eustache va riesaminato non che io nutra dei sospetti sul suo conto ma dobbiamo procedere con metodo accerteremo la validità degli affidavit che davano conto del modo in cui trascorse quella domenica affidavit del genere possono essere oggetto di facili manipolazioni se però non vi troveremo nulla che non quadri troncheremo ogni indagine sul conto di Saint Eustache il suo suicidio che potrebbe confermare i sospetti nel caso si dovesse scoprire alcun dolo negli affidavit non sussistendo il dolo non costituirebbe affatto una circostanza inspiegabile o tale da indurci a deflettere dal procedimento di una normale analisi e in quella che ora propongo trascureremo i punti centrali della tragedia concentrando la nostra attenzione sugli elementi periferici uno degli errori che più spesso si commettono in indagini come la presente e non il meno grave è quello di restringere la ricerca ai fatti immediati trascurando totalmente gli eventi collaterali o circostanziali è malcostume dei tribunali confinare testimonianze e discussione entro i limiti di ciò che è manifestamente rilevante eppure l'esperienza ha dimostrato e ogni speculazione attentamente razionale dimostrerà sempre che un'ampia parte della verità forse la più ampia scaturisce da ciò che è in apparenza irrilevante è sulla base dello spirito se non sulla lettera di questo principio che la scienza moderna ha risolto di calcolare sull'imprevisto ma forse voi non mi seguite la storia della conoscenza umana ha ininterrottamente mostrato che a eventi collaterali o incidentali o accidentali siamo debitori delle più numerose e più preziose scoperte così che si è reso infine necessario in una prospettiva di progresso tenere in gran conto anzi in grandissimo conto quelle scoperte che nascono dal caso fuori dai confini di ogni normale previsione non è più considerato razionale fondare su ciò che è stato l'idea di ciò che sarà l'accidente viene ammesso come parte della sottostruttura il caso diviene rigorosamente calcolabile sottoponiamo l'imprevisto e l'inimmaginabile alle formule matematiche delle scuole ripeto è un fatto che la parte più ampia di ogni verità scaturisce da cause collaterali e in accordo con il principio implicito in questo fatto vorrei nel caso presente dirottare l'indagine dal terreno battuto e fino alla sterile dell'evento in sé alle circostanze contemporanee e concomitanti mentre voi verificate l'attendibilità degli affidavit io intendo esaminare i giornali in modo più generico di quel che avete fatto finora abbiamo solo perlustrato il terreno dell'indagine ma sarebbe davvero strano se un esame complessivo dei giornali quale mi ripropongo di condurre non ci offrisse alcuni minuscoli punti capaci di dare all'indagine una direzione precisa obbedendo ai suggerimenti di Dupin sottoposi a scrupoloso esame tutto quanto il materiale degli affidavit il risultato fu una ferma convinzione della loro attendibilità e di conseguenza della non colpevolezza di Saint-Eustache nel frattempo il mio amico si dedicava con una scrupolosità a mio parere senza scopo a un esame delle varie raccolte di giornali alla fine della settimana mi sottopose ai seguenti estratti circa tre anni e mezzo fa un'impressione non dissimile dall'attuale venne prodotta dalla scomparsa della medesima Marie Roget dalle profumerie di Monsieur Lebranc al Palais Royal trascorsa una settimana tuttavia e la ricomparve al suo solito comptoir in buona salute sempre se si accettua un lieve insolito pallore Monsieur Lebranc e la madre della giovane dissero in giro che si era semplicemente recata a far visita a certi parenti in campagna e la cosa fu subito messa a tacere supponiamo che la sua assenza attuale sia dovuta a un capriccio dello stesso genere e che di qui a una settimana o forse un mese ella sarà di nuovo tra noi la sera lunedì 23 giugno un giornale della sera accennava ieri a una precedente misteriosa scomparsa di Mademoiselle Roget ora è risaputo che durante la settimana della sua assenza dalla profumeria di Leblanc ella fu in compagnia di un giovane ufficiale di Marina noto per i suoi costumi dissoluti un litigio a quanto si suppone la indusse provvidenzialmente a far ritorno a casa di questo il lotario attualmente in licenza a Parigi conosciamo il nome ma per ovvie ragioni ci asteniamo da renderlo noto e Mercure martedì 24 giugno un misfatto tra i più atroci venne perpetrato ieri l'altro presso questa città un signore in compagnia della moglie e della figlia verso sera ingaggiò sei giovanotti che ozzosamente remavano su e giù per la senna perché li traghettassero con la loro barca sulla riva opposta del fiume come vi giunsero i tre passeggeri scesero a terra e si erano allontanati tanto da perdere di vista la barca quando la figlia si accorse di avervi dimenticato il parasole tornò sui suoi passi per riprenderlo ma venne afferrata dai criminali imbavagliata brutalizzata e infine condotta arriva in un punto non lontano da quello in cui si era imbarcata insieme ai genitori per il momento i delinquenti sono latitanti ma la polizia è sulle loro tracce e presto alcuni di loro saranno catturati il mattino 25 giugno abbiamo ricevuto un paio di messaggi tendenti a imputare del recente atroce misfatto menne ma poiché questo signore sottoposto a inchiesta è stato prosciolto e poiché gli argomenti dei corrispondenti ci appaiono più puntigliosi che profondi non riteniamo opportuno renderli pubblici il mattino 28 giugno abbiamo ricevuto apparentemente da fonti diverse messaggi che con tono convincente e convinto sostengono come cosa certa che la sventurata Marie Roget è stata vittima di una delle numerose bande di teppisti che la domenica infestano i dintorni della città la nostra opinione personale concorda pienamente con tale ipotesi cercheremo in seguito di esporre nel nostro giornale alcune di queste argomentazioni la sera martedì 31 giugno lunedì un battelliere della centrale del dazio notò un'imbarcazione vuota che scendeva lungo la senna le vele si trovavano ripiegate sul fondo dell'imbarcazione il battelliere la rimorchiò fino all'ufficio navigazione il mattino dopo senza che nessuno dei funzionali se ne accorgesse la barca venne portata via il timone si trova ora all'ufficio navigazione la dirigenza giovedì 26 giugno quando il biletto i vari estratti non solo mi parvero irrilevanti ma non riuscì a vedere in che modo potessero avere un qualche rapporto con la questione di cui ci stavamo occupando restai pertanto in attesa di qualche spiegazione da Dupin per ora disse Dupin non è mia intenzione soffermarmi sui primi due estratti gli ho trascritti soprattutto per farvi notare l'estrema negligenza della polizia la quale per quel che posso capire da ciò che ha detto il prefetto non si è minimamente presa la briga di rintracciare e interrogare l'ufficiale di Marina a cui si allude e tuttavia sarebbe pura follia affermare che non vi sia un possibile rapporto tra la prima e la seconda scomparsa di Marie ammettiamo che la prima fuga si sia conclusa con un litigio tra gli innamorati e col ritorno a casa della ragazza delusa ingannata saremo allora inclini a considerare una seconda fuga sempre che si sappia si tratti anche questa volta di fuga come indizio delle rinnovate avance del seduttore piuttosto che come conseguenza delle nuove proposte di un altro corteggiatore saremo insomma inclini a vedervi un ritorno o un tentativo di ritorno all'antico amor piuttosto che l'inizio di uno nuovo ci sono dieci probabilità contro una che colui che già una volta è fuggito con Marie torni a fare la stessa proposta piuttosto che la ragazza cui già un uomo ha proposto la fuga accetti da un altro la medesima proposta e qui permettetemi di richiamare la vostra attenzione sul fatto che il periodo intercorso tra la prima fuga accertata e la seconda supposta supera di alcuni mesi la normale durata delle crociere delle navi da guerra forse l'innamorato era stato costretto a interrompere quella sua prima trama di seduzione dalla necessità di imbarcarsi e poi ha approfittato del primo momento dopo il suo ritorno per rinnovare i suoi ignobili disegni non ancora completamente attuati o che a lui non era riuscito di attuare completamente di tutto ciò non sappiamo nulla ma voi direte che nel secondo caso non vi è stata fuga come si immagina no certo ma possiamo dire che non vi sia stato un piano poi frustrato a parte sante ustasce forse bove non abbiamo notizia di alcun altro corteggiatore riconosciuto ammesso l'ufficiale di marì di altri non si dice nulla chi è dunque l'innamorato segreto del quale i parenti o almeno la maggior parte di essi non sanno nulla ma che marì incontra la domenica mattina e in cui nutre così piena fiducia da non esitare a rimanere con lui finché scendono le ombre della sera tra i boschetti solitari della barriere du Roule chi è mai quell'innamorato segreto chiedo io del quale almeno la maggior parte dei parenti non sa nulla e che significa quella singolare profezia di madame rogé la mattina della partenza di marì quel suo timore che non l'avrebbe rivista mai più ma se non possiamo immaginare che madame rogé sia stata messa a parte del progetto di fuga non possiamo almeno supporre che la ragazza carezzasse un disegno del genere uscendo di casa lasciò intendere che si accingeva a far visita a sua zia in rue de Trom e il santo eustace fu pregato di raggiungerla verso sera ora a prima vista questo fatto sembra essere il netto contrasto con la mia ipotesi ma riflettiamo un momento che maria abbia incontrato qualcuno e che in sua compagnia abbia attraversato il fiume giungendo alla barriere a ora così tarda le tre pomeridiane e così nota ma avendo consentito ad accompagnarsi con questo individuo qualunque le fosse il motivo noto o ignoto alla madre deve pure aver pensato all'intenzione espressa mentre usciva di casa e alla sorpresa al sospetto che si sarebbero destati nel cuore del suo corteggiatore e fidanzato santo eustace quando presentandosi allora stabilita Henry de Rom avrebbe scoperto che non vi si era recata e quando per di più ha ritornato alla pensione con tale allarmante notizia avrebbe saputo della sua prolungata assenza da casa deve averci pensato vi dico deve aver previsto il tormento di santo eustace e i sospetti di tutti non può aver pensato di tornare a casa ad affrontare questi sospetti ma il sospetto diventa per lei una questione di scarsa importanza se supponiamo che non intendesse ritornare possiamo immaginare che abbia ragionato in questo modo devo incontrare una certa persona per fuggire insieme o per altri scopi che io sola conosco è necessario che non vi siano intralci dobbiamo avere il tempo sufficiente per sfuggire a un inseguimento farò credere che andrò a far visita dalla zia in cui santo home e trascorrerò tutta la giornata con lei dirò a sante eustace di non venirmi a prendere prima di sera così si spiegherà la mia assenza da casa per il periodo più lungo possibile senza causare sospetti o ansie e io guadagnerò più tempo che in qualsiasi altro modo se chiedo a sante eustace di venirmi a prendere quando farà sera certamente non verrà prima ma se trascuro di chiederglielo disporrò di meno tempo per la fuga perché a casa ci si aspetterà che io ritorno più presto e più presto ci si allarmerà per la mia assenza ora se avessi intenzione di ritornare se progettassi solo una passeggiata con la persona in questione non mi converrebbe chiedere a sante eustace di venirmi a prendere perché in tal caso scoprirebbe inevitabilmente che l'ho ingannato fatto questo di cui potrei tenerlo per sempre all'oscuro uscendo di casa senza comunicargli le mie intenzioni ritornando prima di sera e dicendo poi di essere stata a trovare mia zia in rue de Drôme ma poiché è mia intenzione non far mai ritorno o solo dopo qualche settimana o solo dopo aver trovato il modo di nascondere quel che c'è da nascondere il solo punto che mi deve interessare è guadagnar tempo avete osservato nei vostri appunti che l'opinione più diffusa intorno a tutta questa triste storia è e fu sin dal principio che la ragazza sia stata vittima di una banda di teppisti ora a certe condizioni la pubblica opinione non va sottovalutata quando nasce da sé quando si manifesta in modo assolutamente spontaneo dovremmo ritenerla analoga a quella intuizione che è l'idiosincrasia dell'uomo di genio in 99 casi su 100 io accetterei le sue conclusioni ma è importante che non vi siano tracce palpabili di condizionamento tale opinione deve essere rigorosamente quella del pubblico una distinzione che spesso è difficile cogliere e sostenere nel caso attuale mi sembra che questa pubblica opinione a proposito di una banda sia stata influenzata dal fatto collaterale descritto in tutti i suoi particolari nel terzo dei miei estratti tutta Parigi è eccitata dalla scoperta del cadavere di Marie una ragazza giovane bella conosciutissima il corpo viene ritrovato a galla sul fiume e rega segni di violenza ma ecco che si viene a sapere che nello stesso o all'incirca nello stesso periodo di tempo in cui si suppone che la ragazza sia stata assassinata un misfatto analogo a quello subito dalla defunta seppur di minor gravità venne perpetrato da una banda di giovani teppisti ai danni di un'altra giovane donna c'è da meravigliarsi che un crimine noto influenzi l'opinione pubblica a proposito di un altro avvolto nel mistero l'opinione pubblica tendeva un qualche orientamento e il crimine noto sembrava per l'appunto favorirlo Marie fu rinvenuta nel fiume e non fu su quel fiume che venne commesso l'altro crimine la connessione tra i due avvenimenti era a tal punto palese che semmai ci sarebbe stato da meravigliarsi se la gente non l'avesse colta e non se ne fosse servita ma in realtà un'atrocità commessa nel modo che si conosce prova al massimo che l'altra commessa in un momento che più o meno coincide non venne commessa in quel modo sarebbe stato davvero un prodigio se mentre una banda di teppisti in un dato luogo perpetrava un misfatto inaudito proprio allora e in un luogo simile nella stessa città nelle stesse circostanze con gli stessi mezzi e gli stessi sistemi un'altra banda fosse intenta perpetrare un misfatto della stessa identica natura e nello stesso identico periodo di tempo eppure l'opinione pubblica così accidentalmente orientata in che cosa ci chiede di credere se non in questa prodigiosa serie di circostanze prima di procedere esaminiamo il supposto luogo dell'assassinio i boschetti nelle vicinanze di Barriere du Roule la macchia sebbene fitta era assai prossima alla pubblica via nel folto erano tre o quattro grandi pietre che formavano una specie di sedile con schienale e poggiapiedi la pietra più alta si trovava una sottoveste bianca sulla seconda una sciarpa di seta vi furono rinvenuti anche un parasole un paio di guanti e un fazzoletto il fazzoletto portava ricamato un nome Marie Roget brandelle di vestito vennero scoperti sui rami tutti intorno la terra era smossa calpestata e i cespugli spezzati verano tutti i segni di una colluttazione nonostante i plausi con cui la scoperta del boschetto venne salutata dalla stampa e il fatto che con un'anime supposizione si volle vedere in esso il luogo preciso del delitto sussistono e vale la pena di notarlo quali di motivi per dubitarne che quello fosse il luogo posso crederlo o meno ma c'erano serie ragioni per dubitarne se il luogo del delitto si fosse trovato come suggeriva le commerciale in prossimità di Rue Pave e Sant'André coloro che l'avevano perpetrato supponendo che ancora abitassero a Parigi sarebbero stati più che naturalmente colti dal terrore al vedere che l'attenzione del pubblico fosse proprio rivolta nella direzione giusta e con una mentalità come la loro avrebbero avvertito immediatamente la necessità di far qualcosa per stornare l'attenzione così poiché i sospetti erano già caduti sul boschetto della barriere avrebbero potuto avere l'idea di collocare i vari oggetti nel luogo dove furono poi rinvenuti non vi è alcuna prova sebbene le solei lo supponga che tali oggetti siano rimasti in quel posto più di qualche giorno mentre vi sono molte prove circostanziali che essi non avrebbero potuto rimanere lì senza attirare l'attenzione durante i 20 giorni trascorsi tra quella fatale domenica e il pomeriggio in cui vennero scoperti dai ragazzi erano completamente ammuffiti per effetto della pioggia scrive le soleil adottando l'opinione dei predecessori e la muffa li incollava insieme l'erba era cresciuta intorno ad essi ad alcuni anche sopra la seta del parasole era resistente ma all'interno le sue fibre si erano accavallate la parte superiore dove la stoffa era rinforzata e arrotolata era fradice e ammuffita e quando il parasole venne aperto si lacerò quanto all'erba cresciuta intorno e sopra è evidente che l'asserzione poteva affondarsi solo sulle parole e quindi sui ricordi dei due ragazzini i quali ragazzini presero gli oggetti e li portarono a casa prima che altri li vedesse ma specie quando il tempo è caldo e umido come era nel periodo del delitto l'erba cresce anche di due o tre pollici in un giorno solo un parasole deposto su un terreno messo a prato in una sola settimana può venire nascosto interamente alla vista dell'erba in crescita quanto poi alla muffa su cui il redattore di lessola il tanto pertinacemente insiste a usare la parola non meno di tre volte nel passo testecitato davvero costui non sa niente della natura di questa muffa e allora bisogna informarlo che si tratta di una delle molte specie di fungus la cui caratteristica più comune è quella di spuntare crescere e marcire nel giro di 24 ore ci basta dunque una sola occhiata per capire che gli argomenti addotti con tono così trionfalistico a sostegno dell'idea che gli oggetti fossero rimasti almeno tre o quattro settimane nel boschetto non hanno in quanto prove di fatto nessunissimo valore d'altra parte è estremamente difficile credere che quegli oggetti possono essere rimasti nel boschetto per un periodo più lungo di una settimana da una domenica alla domenica successiva chi ha pratica dei dintorni di Parigi sa quanto sia difficile trovare un luogo appartato a meno che non ci si porti a grande distanza dai soborghi neppure per un istante possiamo immaginare che esista in mezzo ai boschi e boschetti un processo inesplorato o anche poco frequentato supponiamo che qualcuno sinceramente innamorato della natura e tuttavia incatenato dai suoi impegni di lavoro alla polvere e alla calura della metropoli si provi anche nei giorni feriali a placare la sua sete di solitudine tra le bellezze naturali degli scenari che ci circondano così da vicino ad ogni passo scoprirà che il loro incanto cresce ma solo per essere dissolto dalla voce dalla presenza di qualche canaglia o di una commitiva di teppisti vocianti cercherà la solitudine là dove gli alberi sono più folti tutto è inutile sono proprio questi gli angoli invasi dalla gente più sordida questi i tempi più profanati con animo nauseato e dolente il nostro viandante se ne tornerà di corsa alla corrotta Parigi come una sentina di corruzione meno odiosa perché meno incongrua ma se i dintorni della città sono così mal frequentati nei giorni feriali figurarsi poi in quelli festivi è appunto allora che liberatosi dagli obblighi delle quotidiane fatiche o privato delle consuete occasioni che favoriscono il crimine il malfattore urbano cerca i dintorni della città non per amore del paesaggio agreste che in col suo disprezza ma per sfuggire ai divieti alle convenzioni della società non è tanto l'aria pura e il verde degli alberi che egli desidera quanto la completa licenza della campagna qui all'osteria lungo la strada o al riparo del fogliame dei boschi indulge senza che altri occhi tranne quelli dei suoi compagni di Baldoria lo sorveglino a tutti gli sfrenati eccessi di una affettata ilarità frutto del connubio della sregolatezza del rum non aggiungo nulla a ciò che è manifesto ad ogni spassionato osservatore quando ripeto che gli oggetti in questione fossero rimasti inosservati per un periodo più lungo di quello che va da una certa domenica alla domenica successiva in un qualsiasi boschetto negli immediati dintorni di Parigi la cosa sarebbe da considerarsi poco meno che miracolosa ma non mancano altri motivi per autorizzare il sospetto che quegli oggetti siano stati collocati nel boschetto allo scopo di distogliere l'attenzione dalla vera scena del delitto vorrei anzitutto che notaste la data della scoperta degli oggetti confrontatela con la data del quinto dei miei estratti e vedrete che la scoperta è avvenuta subito o quasi subito dopo quei pressanti messaggi inviati alla sera tali messaggi sebbene diversi in apparenza provenienti da varie fonti tendevano tutti al medesimo obiettivo vale a dire additare all'attenzione del pubblico una qualche banda come colpevole del delitto ed intorni della barriere du rule come scena del delitto stesso ora naturalmente non è che gli oggetti siano stati rinvenuti dai ragazzi in conseguenza dei messaggi e della pubblica attenzione da essi orientata ma si può e si poteva sospettare che gli oggetti non siano stati trovati prima dai ragazzi per la semplice ragione che prima gli oggetti non erano nel boschetto essendovi stati collocati solo contemporaneamente alla data dei messaggi o subito prima di essa proprio dai criminali autori dei messaggi stessi il boschetto era singolare estremamente singolare era insolitamente fitto all'interno della sua naturale recinzione si trovavano tre o quattro pietre straordinarie che formavano una specie di sedile con schienale poggiapiedi e questo boschetto così artificioso si trovava nelle immediate vicinanze pochi passi soltanto dall'abitazione di madame deluc i cui ragazzi avevano l'abitudine di frugare tra i cespugli in cerca della corteccia del sasso frasso sarebbe avventato scommettere mille contro uno che mai trascorreva un giorno senza che almeno uno di questi ragazzi andasse a nascondersi in quel salone ombroso e ad assidersi su quel trono naturale chi esiterebbe davanti a una scommessa del genere o non è mai stato ragazzo o ha dimenticato come sono fatti i ragazzi lo ripeto è estremamente difficile comprendere come quegli oggetti abbiano potuto rimanere inosservati in quel boschetto per un periodo più lungo di due o tre giorni e pertanto malgrado l'ignoranza dogmatica di Le Soleil v'è buon motivo per sospettare che furono collocati a una data relativamente tarda là dove vennero rinvenuti ma vi sono altre ragioni anche più forti di quelle su cui ho insistito per credere che siano stati deposti lì a quel modo e ora vorrei attirare la vostra attenzione sulla disposizione assolutamente innaturale degli oggetti sulla pietra più alta si trovava una sottoveste bianca sulla seconda una sciarpa di seta sparsi tutti intorno un parasole un paio di guanti un fazzoletto con il nome Marie Rocher ecco un modo di disporre gli oggetti quale poteva naturalmente venire in mente a una persona non proprio super intelligente che volesse per l'appunto disporre gli oggetti in modo naturale ma il modo in cui sono disposti non è affatto naturale io mi sarei aspettato di vederli gli oggetti tutti sul terreno e calpestati nei limiti angusti del macchione non sarebbe stato possibile che sottoveste e sciarpa rimanessero in quella posizione sulle pietre sfiorati o urtati come erano da più persone impegnate in una lissa perché si è scritto verano tutti i segni di una collutazione la terra della smossa calpestata e i cespugli spezzati eppure sottoveste e sciarpa vennero rinvenute bellamente disposte quasi si trovassero sui ripiani di un armadio i brandelli del vestito strappato dai rovi erano larghi circa tre pollici e lunghi sei uno era l'orlo del vestito che era stato rammendato sembravano strisce di tessuto strappate con violenza qui senza farci caso le soleil ha adoperato una frase estremamente sospetta certo che i brandelli così descritti sembravano strisce di tessuto strappate con violenza ma strappate deliberatamente e con le mani nel caso fortuito è assolutamente raro che una spina riesca a strappare con violenza un brandello da un indumento qual è quello in questione per la qualità stessa del tessuto una spina o un chiodo che vi si impigli provocherà una lacerazione di forma rettangolare due strappi longitudinali ad angolo retto che si incontrano in un vertice il punto dove è penetrata la spina ma è impossibile immaginare che un brandello del genere sia strappato con violenza io non ho mai visto niente di simile e voi neppure per staccare di netto un pezzo di questo tessuto sarà necessario quasi sempre l'intervento di due forze distinte che agiscono in direzione opposta se il tessuto ha degli orli se ad esempio si tratta di un fazzoletto e se ne voglia staccare una striscia allora e solo allora potrà bastare l'azione di un'unica forza ma nel caso in questione si tratta di un vestito che presenta un solo orlo dove le spine fossero più d'una solo per un miracolo potrebbero staccare un pezzo dalla parte interna di un vestito che non presenta orlo una spina sola non ci riuscirebbe mai ma anche là dove c'è un orlo saranno necessarie due spine una delle quali agisca in due diverse direzioni l'altra in una terza questo supponendo che l'orlo non abbia un bordo di passamaneria perché se lo ha la cosa è assolutamente fuori questione vediamo così quanto numerosi e grandi siano gli ostacoli che si oppongono alla teoria dei brandelli di tessuto strappati con violenza solo per azione delle spine eppure ci si chiede di credere che non un brandello solo ma molti siano stati strappati in tal modo non solo ma uno era l'orlo del vestito l'altro era un pezzo della gonna non l'orlo vale a dire che le spine l'avevano strappato dalla parte interna senza orlo del vestito credo sia perdonabile non credere a cose del genere e tuttavia prese tutte insieme esse offrono motivi di sospetto meno ragionevoli di quanto non sia un'altra stupefacente circostanza che questi oggetti siano stati abbandonati nel boschetto da assassini che avevano avuto la precauzione di rimuovere il cadavere se però supponete che io voglio negare che il boschetto sia la scena del delitto mi avete frainteso può bendarsi che qui abbia avuto luogo un misfatto o più probabilmente che si sia verificato un incidente in casa di madame de luc comunque questo è un punto di secondaria importanza non stiamo cercando di scoprire la scena del delitto ma di individuarne gli autori ho addotto i miei argomenti con una certa pedanteria lo ammetto con lo scopo di dimostrare in primo luogo quanto fossero assurde le ostinate avventate asserzioni di le soleil e in secondo luogo di portarvi seguendo la via più naturale a considerare ulteriormente il problema se questo assassino sia stato commesso o meno da una banda riprenderemo la questione limitandoci ad accennare ai particolari rivoltanti esposti dal chirurgo interrogato nel corso dell'inchiesta basterà ricordare che le sue illazioni pubblicate dai giornali riguardo al numero dei criminali sono state giustamente ridicolizzate come erronee e assolutamente infondate da tutti i più stimati anatomisti di Parigi non voglio dire che le cose non siano andate nel modo che tali illazioni presupponevano solo che quelle illazioni non avevano alcun fondamento ma non c'era forse fondamento sufficiente per trarre altre illazioni riflettiamo ora su quei segni di collutazione vi chiedo che cosa dovrebbero mai dimostrare quei segni una banda ma non stanno piuttosto a dimostrare l'assenza di una banda quale colluttazione una colluttazione così violenta e prolungata da lasciare segni dovunque poteva aver luogo tra una giovane donna debole e indifesa e la supposta banda di delinquenti bastava la morsa silenziosa di poche braccia forzute e tutto finiva lì la vittima deve essere stata alla merced dell'altrui volere assolutamente passiva tenete presente che gli argomenti avanzati contro la tesi che il boschetto fosse la cena del delitto hanno in buona parte una loro validità solo se si suppone che il delitto sia stato commesso da più persone se immaginiamo un solo stupratore allora e solo allora possiamo capire una lotta così violenta e ostinata da lasciare segni evidenti e ancora ho già detto quanto sia sospetto il fatto che gli oggetti siano stati abbandonati nel boschetto dove furono rinvenuti sembra quasi impossibile che tali prove di colpa siano state lasciate per caso là dove vennero trovate dunque si suppone che il criminale abbia avuto tanta presenza di spirito da rimuovere il cadavere e tuttavia si ammette che egli abbia lasciato sul luogo del delitto una prova più concreta del cadavere stesso i cui lineamenti sarebbero in breve tempo divenuti irriconoscibili per effetto della putrefazione la prova intendo costituita dal fazzoletto con il nome della vittima se ciò è avvenuto per caso allora non si tratta di una banda un caso del genere è ammissibile solo se si tratta di un individuo vediamo un uomo ha commesso il delitto da solo è solo con il fantasma della morta ciò che giace in moto davanti a lui lo empie di terrore la furia della passione si è spenta e nel suo cuore ve spazio abastevole per il naturale orrore dell'atto commesso non vi ha in lui la valdanza che la presenza di altre persone inevitabilmente ispira e gli è solo con la morta trema e stravolto e tuttavia è necessario far sparire il cadavere lo porta fino al fiume e lascia dietro di sé le prove della colpa è difficile se non impossibile portare il fardello in una sola volta e poi gli sarà facile tornare a prendere quel che è rimasto ma durante il faticoso viaggio verso il fiume i suoi timori si moltiplicano da ogni parte i suoni della vita irrompono sul suo sentiero più e più volte ode o immagina di udire passi di qualcuno che lo osserva anche le luci della città lo sconvolgono tuttavia col tempo con lunghe e frequenti soste angusciose raggiunge la riva del fiume e si sbarazza del suo carico di morte forse servendosi di una barca ma ora quale tesoro al mondo quale minaccia di vendetta del mondo tutto potrebbe indurre l'assassino solitario a tornare per quel sentiero faticoso e pericoloso fino al boschetto e ai suoi agghiaccianti ricordi ed egli non ritorna qualunque ne sia la conseguenza non potrebbe ritornare anche se lo volesse il suo solo pensiero è quello di fuggire subito volge per sempre le spalle a quell'orrendo sterpeto e fugge come davanti alla collera celeste e se invece si fosse trattato di una banda il numero avrebbe dato ai suoi membri un senso di sicurezza sempre che nel petto di un delinquente matricolato non ve ne sia a sufficienza e le bande si suppone sono formate solo da delinquenti matricolati il numero ripeto avrebbe impedito quello sgomento quel folle terrore che come ho immaginato paralizzerebbe uomo solo possiamo supporre che uno di loro o due o tre abbia commesso un errore di distrazione ma a questo errore il quarto avrebbe posto rimedio non si sarebbero lasciati dietro nulla il loro numero gli avrebbe consentito di portare tutto in una sola volta non ci sarebbe stata alcuna necessità di ritornare considerate ora questa circostanza quando venne ritrovato il corpo una striscia di stoffa larga circa un piede era stata strappata dall'orlo della gonna fino su alla vita era stata avvolta in tre giri attorno alla vita e fermata sulla schiena con una sorta di nodo a fiocco questo venne fatto col palese scopo di ottenere una specie di maniglia con cui sollevare e trasportare il corpo se gli uomini fossero stati più d'uno vi sarebbero mai sognati di ricorrere a un simile espediente a tre o quattro uomini e membra del corpo avrebbero offerto una presa non solo sufficiente ma la migliore possibile questo è l'accorgimento ideato da un individuo che operi da solo il che ci conduce al fatto che tra la macchia di rovi e il fiume erano state divelte le staccionate e le tracce sul terreno indicavano che vi era stato trascinato un pesante fardello ma se gli uomini fossero stati più d'uno si sarebbero mai imposta la fatica di divellere una staccionata allo scopo di trascinare un corpo che in un attimo avrebbero potuto sollevare al di là di qualsiasi staccionata se gli uomini fossero stati più d'uno ne avrebbero mai trascinato un cadavere sul terreno in modo da lasciarne tracce evidenti e qui dobbiamo riferirci a un'osservazione di Le Comerciel che ho già in certa misura commentata scrive il giornale un pezzo di una delle sottovesti della sventurata giovani lungo due piedi e largo uno venne strappato legato sotto il mento e annodato alla nuca probabilmente per impedire che la vittima gridasse chi ha fatto ciò non aveva nemmeno un fazzoletto da tasca o da collo ho già osservato che un'autentica canaglia non è mai sprovvisto di fazzoletto ma non è questo il punto che ora mi interessa non fu per la mancanza di un fazzoletto che per lo scopo immaginato da Le Comerciel si ricorse a un legaccio come quello lo dimostra e in modo evidente il fazzoletto abbandonato nel boschetto e che il legaccio non venisse usato per impedire che la vittima gridasse risulta anche dal fatto che lo si preferì a qualcosa che assai meglio avrebbe risposto allo scopo ma nella testimonianza si dice che la striscia di tessuto quando venne trovata era legata intorno al collo un po' allentata ma tenuta ferma da un solido nodo a fiocco parole piuttosto vaghe ma che differiscono sostanzialmente da quelle di Le Comerciel la striscia era larga 18 pollici e quindi anche se di mussola avrebbe costituito un legaccio solido quando fosse stata ripiegata e arrotolata per il lungo e quando fu scoperta era appunto arrotolata in questo modo la mia conclusione è questa l'assassino solitario provenendo o meno dal boschetto dopo aver trasportato per un certo tratto il corpo servendosi della striscia legata agli intorno alla vita si rese conto che procedendo in quel modo il peso era troppo grande per le sue forze decise così di trascinare il fardello e le tracce mostrano che fu effettivamente trascinato in vista di questa soluzione divenne necessario legare qualcosa di simile a una corda a una delle estremità il punto migliore cui legarlo era il collo già che la testa avrebbe impedito che scivolasse via ed è certo in quel momento che l'assassino si ricordò di quel legaccio attorno ai fianchi se ne sarebbe servito non fosse stato per il fatto che girava intorno al corpo era fermato da quel nodo e non era stato completamente strappato dal vestito era più facile staccare un'altra striscia dalla sottoveste la staccò l'annodò attorno al collo e così trascinò la vittima fino alla riva del fiume che si ricorresse a questa specie di legaccio la cui confezione richiedeva fatica e perdita di tempo e solo imperfettamente rispondeva allo scopo che si ricorresse al legaccio dicevo dimostra che la necessità di tale espediente fu imposta da circostanze sorte in un momento in cui il fazzoletto non era più a portata di mano vale a dire dopo che l'assassino aveva lasciato il boschetto sempre che si trattasse del boschetto lungo la strada tra il boschetto e il fiume ma direte la testimonianza di madame deluc già parliamone un po' fa preciso riferimento alla presenza di una banda nelle vicinanze del boschetto più o meno allora in cui fu commesso il delitto e ci credo il dubbio è se alla barriere du cul o più o meno nelle sue vicinanze non vi fossero più o meno allora in cui avvenne la tragedia una dozzina di bande come quella descritta da madame deluc ma la banda che ha attirato su di sé la specifica attenzione di madame deluc e ne ha provocato la testimonianza a dire il vero alquanto tardiva e assai sospetta è la sola descritta da questa buona meticolosa signora perché i suoi membri hanno mangiato i suoi dolci e traccannato il suo brandy senza darsi la pena di pagare il conto et ink il leire ma qual è la deposizione esatta fornita da madame deluc capitò lì una banda di mascalzoni fecero chiasso mangiarono e bevero senza pagare proseguirono per la strada presa dal giovanotto e dalla ragazza tornarono alla locanda che era quasi il crepuscolo e riattraversarono il fiume in gran fretta ora questa gran fretta molto probabilmente parve ancora più grande agli occhi di madame deluc visto quel suo modo di insistere lamentosamente sui suoi dissacrati dolci e liquori quei dolci e liquori per i quali forse ancora nutriva una vaga speranza di indennizzo perché altrimenti se era quasi il crepuscolo avrebbe insistito tanto sulla fretta non è certo da stupirsi che una banda di teppisti abbia fretta di tornarsene a casa quando c'è da attraversare un ampio fiume su piccole imbarcazioni quando si annuncia un temporale e la notte è vicina dico vicina perché ancora non è scesa la notte era quasi il crepuscolo quando l'indecolosa fretta di questi mascalzoni offese i timorati occhi di madame deluc ma si si dice che quella stessa sera madame deluc e il figlio maggiore udirono delle grida di donna non lontano dalla locanda e con quali parole madame deluc indica l'ora in cui si udirono quelle grida si era appena fatto buio dice ma si era appena fatto buio significa che era già notte e era quasi il crepuscolo significa non vè dubbio che è ancora giorno così è ben chiaro che la banda lasciò la barriere d'ugode prima che madame deluc udisse o credesse di udire quelle grida e sebbene in tutti i numerosi verbali dell'istruttoria le succitate espressioni siano chiaramente e invariabilmente riportate così come le ho riportate io in questa nostra conversazione nessun giornale nessuno dei mirmidoni della polizia ha finora rilevato la grossolana contraddizione aggiungerò un unico argomento contro la teoria della banda ma quest'unico argomento ha almeno a mio modo di vedere un peso assolutamente determinante date le circostanze offerta una generosa ricompensa e condono assicurato a chi denunci i propri complici non si può immaginare neppure un momento che un qualche membro della supposta banda di volgari criminali o di qualsiasi gruppo di individui non avrebbe già da tempo tradito i suoi compari in tale situazione chiunque faccia parte di una banda non è tanto abito di ricompense o ansioso di fuggire quanto timoroso di essere tradito e tradisce prontamente precipitosamente per non essere tradito lui stesso e il segreto non sia stato svelato è la maggior prova che si tratta appunto di un segreto gli orrori di questa impresa tenebrosa sono noti soltanto a uno o due esseri viventi e a dio riassumiamo dunque immagrima certi frutti della nostra lunga analisi abbiamo avanzato l'ipotesi di un fatale incidente occorso sotto il tetto di madame deluc o di un assassino perpetrato nel boschetto della barriere dougoul da un amante o almeno da un amico intimo e segreto della vittima questo amante o amico è un uomo di carnagione scura il colorito nodo a fiocco che tiene fermo il legaccio e il nodo da marinaio ai nastri della cuffietta fanno pensare a un marinaio la sua familiarità con la defunta ragazza leggera ma non abbietta lascia supporre che fosse di grado più elevato che non un semplice marinaio di ciò sembrano dare conferma quei messaggi dal tono convincente e convinto pervenuti alla stampa la circostanza della prima fuga così come ne parla le mercure tende a fondere l'immagine di questo marinaio con l'altra dell'ufficiale di marina che sarebbe stato il primo a trascinare al male la sventurata a questo punto si impone una considerazione quella relativa alla prolungata assenza dell'uomo di carnagione scura vorrà insistere sul fatto che il colorito di quest'uomo è scuro abbronzato e doveva trattarsi di un'abbronzatura non comune se questo è il solo particolare che sia rimasto impresso nella memoria e di Valence di Madame Deluc ma perché quest'uomo è assente venne forse assassinato dalla banda e in tal caso perché ci sono solo le tracce della ragazza assassinata la scena dei due delitti dovrebbe essere la stessa ma allora dov'è il corpo dell'uomo forse gli assassini se ne liberarono allo stesso modo forse ma si può dire anche che quest'uomo è vivo e che ciò che gli impedisce di farsi avanti è il timore di essere accusato di omicidio e si potrebbe supporre che questa considerazione abbia peso per lui ora dopo tanto tempo e che esistono le testimonianze di chi lo vide con Marie ma allora all'epoca del delitto non avrebbe dovuto toccarlo minimamente il primo impulso di un uomo innocente avrebbe stato quello di denunciare il delitto e di collaborare all'identificazione dei colpevoli tanto avrebbero suggerito delle paure e semplici ragioni di tattica era stato visto con la ragazza in sua compagnia aveva attraversato il fiume su un traghetto aperto la denuncia degli assassini sarebbe apparsa anche a un idiota il mezzo più sicuro l'unico per stornare ogni sospetto non possiamo ritenere quest'uomo la notte di quella fatale domenica innocente e ignaro del delitto commesso eppure solo in tali circostanze è possibile immaginare che egli sempre che fosse vivo avrebbe mancato di denunciare gli assassini e quali mezzi abbiamo per arrivare alla verità scopriremo che questi mezzi si moltiplicano e si definiscono via via che procediamo pagliamo fino in fondo la faccenda di quella prima fuga cerchiamo di conoscere tutta quanta la storia dell'ufficiale di sapere dove si trova attualmente e dove si trovava all'ora esatta del delitto confrontiamo con cura i vari messaggi inviati alla sera e il cui scopo era di accusare una banda ciò fatto confrontiamo questi messaggi per quel che concerne stile e grafia con quelli inviati precedentemente a il mattino e che con tanto accanimento insistevano sulla colpevolezza di mennei e fatto tutto ciò confrontiamo i vari messaggi con scritti autografi dell'ufficiale cerchiamo di apprendere mediante ripetuti interrogatori di madame de luc e dei suoi ragazzi nonché del conducente di omnibus valence qualcosa di più sull'aspetto personale e sul portamento dell'uomo di carnagione scura le domande se accortamente dirette non mancheranno di cavare da alcuni di costoro informazioni su questo punto o su altri che essi forse ignorano di possedere rintracciamo poi l'imbarcazione trovata dal battelliere la mattina di lunedì 23 giugno rimorchiata all'ufficio navigazione e portata via di lì priva del timone senza che il funzionario di servizio se ne accorgesse qualche tempo prima della scoperta del cadavere e con la dovuta cautela e perseveranza rintracceremo senza fallo questa imbarcazione perché non solo può identificarla il battelliere che la trovò ma il timone è a portata di mano il timone di una barca a vela non sarebbe stato abbandonato così senza effettuare le ricerche del caso da chi avesse la coscienza tranquilla e qui vorrei fare una pausa per azzardare una domanda non venne data alcuna notizia del rinvenimento di questa barca venne portata all'ufficio navigazione senza dir parola a nessuno e senza dir parola a nessuno venne portata via di lì ma come accadde che il proprietario o chi se ne era servito come accadde dico che costui già la mattina di martedì fosse informato senza che ne fosse data notizia del posto dove si trovava un'imbarcazione ritrovata il lunedì o dovremmo supporre che gli abbia qualche rapporto con la marineria un rapporto personale continuo che gli permette di essere a conoscenza degli affari più minuti delle piccole novità locali parlando del solitario assassino che si trascina quel fardello fino alla riva ho già accennato alla probabilità che egli si sia servito di una barca ora dobbiamo convincerci che Marie Roget venne gettata in acqua da una barca nelle cose possono essere andate diversamente il cadaveri non poteva essere affidato alle acque poco profonde lungo la riva quei segni particolari sulla schiena e sulle spalle della vittima indicano proprio il fasciame di fondo di una barca anche il fatto che il corpo sia stato trovato senza pesi conferma l'ipotesi se fosse stato gettato in acqua dalla riva certamente gli avrebbero attaccato un peso possiamo spiegarne l'assenza solo supponendo che l'assassino abbia trascurato la precauzione di procurarsene uno prima di staccarsi dalla riva al momento di affidare il corpo alle acque senza dubbio si sarà accorto della dimenticanza ormai non aveva più sotto mano nulla che potesse porvi rimedio meglio correre qualsiasi rischio piuttosto che far ritorno a quella sponda maledetta liberatosi del suo carico di morte l'assassino si sarà affrettato a tornare in città lì a qualche oscuro molo sarà balzato a terra ma la barca l'avrà attraccata come si deve avrà avuto troppa fretta per farlo inoltre assicurandola al molo avrà avuto l'impressione di lasciare lì una testimonianza contro se stesso suo naturale pensiero sarà stato quello di allontanare da sé il più possibile tutto ciò che aveva rapporto col delitto non solo se ne sarà fuggito via da quel molo ma non avrà tollerato che ci rimanesse la barca certamente l'avrà abbandonata alla corrente continuiamo con le nostre fantasie al mattino lo sciagurato scopre con indicibile orrore che la barca è stata recuperata e trattenuta in un luogo che egli per quotidiana abitudine frequenta e in un luogo forse che necessità di servizio lo costringono a frequentare la notte dopo senza avere il coraggio di chiedere il timone si porta via la barca ora dov'è quella barca senza timone cerchiamo di scoprirlo sarà questo uno dei nostri primi obiettivi non appena scorgeremo quella barca comincerà l'alba del nostro successo la barca ci guiderà con una rapidità che stupirà anche noi a colui che se ne servì la mezzanotte di quella domenica fatale le prove si aggiungeranno alle prove e l'assassino verrà rintracciato per ragioni che non specificheremo ma che a molti dei lettori appariranno ovvie ci siamo presi la libertà di omettere dai manoscritti che ci furono consegnati alcune parti come quelle dove è descritto nei particolari il seguito delle indagini che furono avviate muovendo dalla traccia in apparenza così esigua scoperta da Dupin riteniamo opportuno solo comunicare brevemente che il risultato da lui auspicato venne raggiunto e che il prefetto tenne puntualmente fede anche se con riluttanza ai termini del suo contratto con il cavaliere l'articolo di Mr. Po si conclude con le seguenti parole la redazione ben si intenderà che parlo di coincidenze e nient'altro basti quanto ho già detto in proposito nella mia anima non alberga fede alcuna nel soprannaturale che la natura e Dio siano due enti distinti nessun essere pensante potrà negarlo che il secondo creando la prima può di propria volontà controllarla o modificarla è pure fuori questione ho detto di propria volontà già che si tratta di volontà e non come l'insania della logica presunto di potenza non che la divinità non possa modificare le proprie leggi ma noi la insultiamo supponendo che possa darsi necessità di modifiche fin dalla loro origine queste leggi vennero formulati in modo da poter abbracciare tutte le possibili contingenze future per Dio tutto è presente ripeto dunque che parlo di queste cose solo come di coincidenze e ancora in quanto riferisco si vedrà chiaramente che tra il destino della infelice Mary Cecilia Rogers e quel tanto che esso c'è noto e il destino di una certa Marie Roger fino a un dato punto della sua storia esiste un parallelo di fronte alla cui sorprendente esattezza la ragione prova turbamento e imbarazzo tutto ciò ho detto si vedrà chiaramente ma non si supponga che procedendo nella triste storia di Marie a partire dal punto che stai menzionato e portando al suo denouement il mistero che la volgeva sia mio recondito disegno estendere sia pure in modo allusivo il parallelo o magari suggerire che le misure adottate a Parigi per scoprire l'assassino di una grisette o misure comunque fondate su analogo processo logico potrebbero condurre ad analoghi risultati infatti per quanto riguarda il secondo punto di tale supposizione si dovrebbe tener presente che la più insignificante variazione nei fatti dei due casi può dare origine ai più gravi errori di calcolo facendo totalmente divergere le due serie di eventi pressa poco comune in aritmetica un errore che preso in sé può essere trascurabile alla fine a forza di moltiplicarsi ad ogni singolo passaggio produce un risultato che differisce enormemente dal vero per quanto riguarda il primo punto dobbiamo ricordare che proprio quel calcolo delle probabilità di cui è accennato vieta ogni ulteriore estensione del parallelo lo vieta tanto più enorgicamente ed esplicitamente quanto più a lungo ed esattamente si sia protratto il parallelo stesso è una di quelle enunciazioni anomere che apparentemente si rivolgono un'intelligenza totalmente estranea alla matematica e che tuttavia solo il matematico può pienamente apprezzare niente ad esempio è più difficile che convincere il comune lettore del fatto che se un giocatore di dadi fa un 6 per due volte consecutive ciò basta per scommettere e scommettere forte che al terzo colpo il 6 non uscirà in ormai l'intelligenza respinge immediatamente tale ipotesi non si vede come due lanci già effettuati e che ormai giacciono nel passato possono avere influenza su un lancio che esiste solo nel futuro le probabilità di gettare un 6 sembrano essere precisamente le stesse che in qualunque altro momento vale a dire sembrano soggette solo all'influenza di tutti i possibili lanci dei dadi e questa è una considerazione così apparentemente ovvia che i tentativi di controbatterla vengono accolti più spesso con un sorrisetto di scherno che con un qualcosa di vagamente simile a una rispettosa attenzione l'errore implicito errore grossolano in cui si annusa una trappola maliziosa non pretendo dichiarirlo entro i limiti qui impostimi né chi è in grado di pensare razionalmente ha bisogno di chiarimenti basterà dire che esso è parte dell'infinita serie di errori in cui la ragione si imbatte nel suo cammino a causa della sua propensione a cercare la verità nel particolare a cercare la verità e a cercare la verità